Buongiorno a tutti, sono l'ingegnera di Nora Quadretti, coordinatrice del gruppo di lavoro BIM di FOIB, Federazione Ordini Ingegneri Veneto. Innanzitutto vi ringrazio per aver voluto condividere con noi queste tre ore assieme. Il gruppo di lavoro ci sta lavorando ormai da qualche mese a questo convegno. Faccio una piccola introduzione e poi dopo passo la parola ai relatori e ai saluti ufficiali. Perché ci troviamo qua oggi? Come gruppo di lavoro abbiamo voluto organizzare questo convegno per sottolineare l'importanza dell'acquisizione ma soprattutto di investire come obiettivo dell'acquisizione delle competenze digitali che ormai oggigiorno sono sempre più fondamentali anche nella professione dell'ingegnere. e nel nostro caso sono competenze più mirate al BIM Management. Come abbiamo voluto strutturare queste testimonianze? Inizialmente interverranno enti pubblici e daranno la loro testimonianza su come hanno voluto investire, come hanno investito e sull'acquisizione e cosa hanno portato all'interno delle organizzazioni a cui appartengono. Successivamente avremo una società di ingegneria e un'impresa di costruzioni del settore ovviamente all'interno della regione Veneto e alla fine avremo gli enti di certificazione. Enti di certificazione che vanno a dare delle indicazioni di come andare a acquisire queste competenze, il perché vengono acquisite e anche un po' la parte storica del perché si è arrivati a questo punto. Faccio una piccola parentesi più che altro organizzativa perché mi hanno chiesto di farla. Allora innanzitutto le domande verranno fatte in chat, riuscirete a fare le domande all'account che si chiama Domande ai relatori. Verranno raccolte e poi dopo sull'ultima parte di questa sessione andremo a rispondere quanto più possibile. Poi per ottenere i tre crediti formativi previsti in queste tre ore bisogna essere connessi dall'inizio fino alla fine, quindi il 100% del tempo. Bene, io adesso mi silenzio e passo la parola per i saluti iniziali all'ingegner Bruno Finzi, vicepresidente di Foiba. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti della FOIV e del suo presidente, ingegner Pasqualino Boschetto, come è potuto intervenire. Vi ringrazio per la partecipazione all'evento e ringrazio il nostro gruppo di lavoro che l'ha programmato. Sentire i punti di vista, come già accennato dall'ingegnere, e le testimonianze degli enti pubblici, delle società di ingegneria, delle imprese di costruzione, degli enti di certificazione, permette di avere il polso della situazione degli attori del BIM, che operano con queste procedure oramai di fatto obbligatorie, sia a livello normativo per certe committenze, sia a livello funzionale per dare risposte alle problematiche connesse al futuro dell'edilizia e del mondo delle costruzioni in generale. che ci avvicinano con queste procedure alle migliori realtà internazionali. Vi lascio e vi auguro una buona partecipazione e un buon lavoro. Grazie. Grazie mille vicepresidente. Adesso invece passo la parola all'ingegnere Gianluca Pasqualone, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, nonché l'ordine ospitante di questo seminario, se fossimo fisicamente presenti. Prego, ingegnere. Sentite? Posso già parlare? Certo. Buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio Foyfe per l'invito, ringrazio anche tutti i partecipanti che si annoiano in questo momento ad ascoltarmi, porto i saluti del mio Presidente che oggi non poteva essere presente e ovviamente i saluti dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia. Il BIM, come tutti, aveva i miei pregiudizi, ma ragionandoci un po' sopra, prendendoci un po' la mano, mi sono accordo che non è il BIM ad essere complesso, ma è il mondo delle costruzioni in generale ad essere. Oggi non abbiamo più i margini economici in un tempo, in tutti i sensi. Le possibilità di errore diminuiscono notevolmente e il progetto deve necessariamente affrontare una maggiore complessità per ridurre gli sprechi e le inefficienze che storicamente, possiamo dire, hanno caratterizzato il settore dell'ecostruzione in generale. Certamente l'impiego di software comporta delle difficoltà iniziali di apprendimento, ma la vera difficoltà, secondo me, chi come secondo me è stato finora abituato a lavorare nel suo studente con pochi intimi, è effettivamente la necessità di operare in un team ormai interdisciplinare. È questo che comporta il maggior grado di complessità, soprattutto appunto per chi come, ahimè, ha una certa età e una forma a mente ormai degradata. Il BIM in realtà non rende, secondo me, non rende le cose più complesse, ma rispecchia piuttosto la necessità di considerare molti più aspetti del progetto rispetto al passato. In sostanza è una che il professionista esca dal suo articendo. Non importa quanto possiamo essere brillanti, quanto può essere brava la nostra capacità, la nostra strategia, La verità è che se giochi una partita da solo e se incontri una squadra ormai devi perdere. Lo diceva anche il mio idolo, il grande giustista americano, con il talento si vincono le partite, ma con il lavoro di squadra si vincono i campionati. Questo è il mio augurio, ringrazio per la pazienza e vi auguro buon lavoro. Grazie mille, Presidente. Chiudiamo questa parte iniziale di saluti, passando la parola a Mario Conte, Presidente dell'Anci Veneto, Anci Veneto con cui FOIV ha di recente sottoscritto un protocollo per la promozione e la diffusione degli strumenti per la transizione digitale. Ringraziamo di aver voluto partecipare per i saluti, quindi passo la parola al signor Mario Conte. Ecco qua, chiedo scusa, a proposito di transizione digitale c'era un problema di collegamento. Grazie per l'invito, complimenti per questa iniziativa, grazie per la costante presenza, collaborazione e sinergia, diceva bene chi mi ha preceduto. Questo è un periodo importantissimo da affrontare con delle sfide straordinarie per il futuro dei nostri territori e che possiamo subire o governare. Per governarlo dobbiamo fare rete, dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare sinergia. Io rappresento gli enti pubblici, forse coloro che rappresentano la burocrazia, l'ufficio, complicazioni, affari semplici, insomma tutte quelle cose che magari a voi professionisti talvolta e alle al mondo delle imprese fanno un po' arrabbiare. Noi come Anci stiamo cercando di far atterrare nel nostro territorio tutta una serie di risorse perché stiamo digitalizzando i nostri municipi. Digitalizzare significa tagliare i tempi della burocrazia, snellire le procedure e accelerare i processi di sviluppo così importanti che possono rappresentare davvero un periodo di rilancio fondamentale per il nostro territorio. Io nel chiedere di continuare a collaborare insieme metto a disposizione quelle che sono poi le conoscenze, le capacità e i punti di forza delle amministrazioni comunali e mi prendo l'impegno anche di andare a risolvere quei punti invece deboli che da sempre rappresentano un ostacolo. La transizione digitale ci vedrà certamente tutti i protagonisti. Noi insieme alla Regione Veneto abbiamo già partecipato a un bando e siamo riusciti a ottenere il finanziamento di fatto per finanziare 585 comuni su 585, nella prima parte per digitalizzare tutti gli archivi. Sappiamo tutti per esempio che nel mondo del super bonus c'è stato un tappo provocato dagli uffici protocolli, dagli accessi atti. Adesso stiamo cercando di mettere una pezza anche a quel problema. Vi chiedo scusa anticipatamente, però noi ereditiamo dei sistemi e delle strutture che talvolta risultano anacronistiche rispetto alle sfide del presente. Però non stiamo qui a piangere sul latte versato, vogliamo cogliere questa opportunità. Adesso arriveranno ulteriori fondi a disposizione per la transizione e credo che quindi da parte nostra ci sarà questa accelerata per riuscire a venire incontro a quelle che sono le vostre esigenze. Complimenti per questo webinar che nei contenuti è straordinario perché informa e mette a conoscenza di quelle che sono le opportunità oltre ad alzare il livello di preparazione e di conoscenza di tutti i professionisti. E poi l'appello che vi faccio è quello di continuare a collaborare perché certamente noi comuni abbiamo bisogno del mondo dei professionisti, del mondo delle imprese, però sono convinto che un pochino anche voi avete bisogno del mondo dei comuni. Ecco, noi siamo qui quindi pronti a tendere la mano. Ringrazio la Federazione Ordini Ingegneri del Veneto perché da sempre si è dimostrata attenta, sensibile e disponibile nei confronti dell'amministrazione pubblica. Quindi noi ci siamo e ancora complimenti e grazie per questa opportunità. Ringrazio Presidente, sottolineo l'importanza di quanto appena detto dal Presidente Anci, ossia l'impegno della pubblica amministrazione. Chi ormai lavora da anni, ma anche chi sta iniziando ad approcciarsi adesso alla metodologia BIM e comunque a una metodologia digitale, sa benissimo che la spinta iniziale di start e di tutto il processo inizia proprio con il comitente o con la stazione appaltante. Quello che in questi anni, diciamo negli ultimi 5-10 anni, non è proprio avvenuto, nel senso che molto spesso erano le società di progettazione che spingevano per proprio investimento oppure le imprese, quelle diciamo più lungimiranti, che hanno visto l'opportunità molti anni fa, hanno iniziato a investire. Però la cosa era ferma nella loro operatività, nella loro produzione. Adesso si sta iniziando a diffondere molto quello che è l'importanza del dato e della gestione informativa e quindi siamo tutti coinvolti dall'inizio alla fine. E quindi è importante investire tutti in questa direzione. Colgo l'occasione, perché sarebbe il momento in cui dovrei fare la relazione introduttiva, ma in realtà l'ho già fatta all'inizio, per ringraziare i componenti di tutto il gruppo di lavoro BIM di FOIV, per la precisione, gli ingegneri Sandro D'Agostini, Brianza Giuseppe, Carlo Zanchetta, che è anche relatore, quindi ha cambiato cappello in questa sede, Borin Paolo, Drigo Roberto, Zocca Francesco e Massola Elena e due componenti del gruppo, che non sono più componenti del gruppo, ma ci tengo a ringraziare anche loro, Bernardi Federico e Muraro Fabio, che comunque hanno dato il via a questo gruppo di lavoro, che sta cercando quanto più possibile, insomma, di proporre e di diffondere questa metodologia e comunque essere anche un punto di riferimento per i professionisti. Bene, ora entriamo pure nel vivo di questo incontro e quindi iniziamo con le testimonianze degli enti pubblici. Quindi adesso passerò la parola a Francesco Ruperto, di Cortina 2126, per avere da lui, diciamo, la sua testimonianza in merito all'importanza di queste competenze digitali. Francesco, ci senti? Lo vedo collegato. No, no. Ok, allora magari invertiamo. Potrebbero esserci dei problemi tecnici, quindi invertiamo un attimo l'ordine e li ho visti collegati prima. Allora passo la parola all'ingegner Erika Carloni e l'ingegner Nicola Scomazzon del gruppo ERA. Quindi passiamo al settore Utilities. L'ingegner Carloni è responsabile dello sviluppo e coordinamento BIM ed è BIM manager per ERA, mentre Nicola Scomazzon è BIM coordinator, quindi diciamo è il braccio destro del BIM manager. Grazie Erika e grazie Nicola e direi che vi passo la parola. grazie a voi. Provo a condividere. Mi sentite? Sì. Perfetto. Allora provo a condividere la presentazione. Allora vi raccontiamo quello che abbiamo fatto in ambito gruppo ERA. Noi, innanzitutto, quello che è stato il nostro percorso. Vi diamo giusto un primo inquadramento di chi è il gruppo ERA. Un approfondimento sulla parte BIM management e un'altra parte più di dettaglio che riguarda l'attività legata alla BIM coordination. Chi siamo noi? Come ha detto e anticipato ora di Nora, io sono responsabile dell'ambito della struttura sviluppo e coordinamento BIM, sono BIM manager ma vengo da un'esperienza progettuale, quindi nasco come progettista per poi evolvermi progressivamente in un ambito più di coordinamento, di project management in impianti di differenti dimensioni e differenti filiere. L'ingegnere Scomazzonna invece nasce proprio nell'ambito BIM, la sua esperienza viene dall'aver seguito un primo master e successivamente essersi specializzato in diversi studi di progettazione. Vi diamo questa vista brevissima anche di noi stessi proprio perché esistono sempre delle anime in evoluzione, nel senso che ci sono esperienze storiche che devono evolversi e figure diciamo nuove che entrano nel solco di una tradizione progettuale, quindi anche i due punti di vista hanno un valore in questo senso, in questo momento di trasformazione. Chi è il gruppo ERA? ERA, probabilmente ci conoscete, siamo una delle maggiori moltiutiliti nazionali, il nostro territorio va da Pesaro Urbino a Modena per quanto riguarda la fascia, chiamiamola Sud Emilia-Romagna, e poi abbiamo il Nord-Est con Padova e le aree di Udine, Gorizia e Trieste. Scusa Erika, se ti interrompo, mi dicono che non si vedono le slide. Ah. Se riesci a provare a ricondividere. Sì, ma forse perché ho messo la modalità presentazione, a volte lo fa. Potrebbe essere. Tengo la modalità normale, così la vedete. In questo momento non vediamo niente. Prova a togliere la... Prova a staccare. Ok, adesso vediamo. Perfetto. Prova a mettere adesso la modalità... Vedete? Sì, adesso sì. Proviamo a vedere. Ok, ci siamo. Grazie mille. Una l'interruzione. No, no, assolutamente. Quindi, rapidamente riprendo chi è il gruppo ERA di Management e di Coordination, l'agenda di oggi. Chi siamo? Io e Nicola, ve l'ho già detto, e adesso eravamo su quella che è la configurazione di gruppo ERA. Quindi, dove siamo, dove operiamo, in quali business, ambiente, ciclo idrico integrato, gas, energia elettrica e lo facciamo in un territorio piuttosto ampio. Copriamo 311 comuni, siamo una realtà di oltre 9000 lavoratori e, insomma, copriamo, appunto, l'area nord e nord-est. Il gruppo ERA vede l'esigenza del BIM fin da subito. Noi partiamo con un progetto di introduzione del BIM nel 2018, quindi subito dopo l'emissione del decreto che, insomma, dava le soglie dell'obbligatorietà. Questo perché? Perché c'è stata un'esigenza normativa, ma la spinta grossa è venuta da un'esigenza di ottimizzazione dei processi. La nostra volontà è stata fin da subito quella di ottimizzare il processo di progettazione e costruzione. La progettazione costa di più, la progettazione è più complicata perché, comunque, lavorare in 3D dà dei vantaggi, il BIM dà molti vantaggi, ma dà anche una complessità superiore che noi riteniamo di poter valorizzare nell'ambito dell'investimento, ovvero ridurre quelle che sono le varianti e le sorprese che ci troviamo in campo quando poi andiamo a realizzare le attività. Noi siamo all'interno di ERA Tech, più in particolar modo, che è una delle società che fa capo alla holding 100% gruppo ERA che si occupa della progettazione e realizzazione degli asset per il nostro gruppo e in quota parte un 20% anche per clienti terzi. Quindi la necessità come ingegneria, un'ingegneria che poi conta circa un 200 persone tra progettazione e direzione lavori, la necessità di ottimizzare i nostri processi, di omogenezzarli, di renderli standardizzati, ridurre i tempi e i costi dell'attività è stato qualcosa che abbiamo individuato da subito come un vantaggio. Ed è per questo appunto che il gruppo ha fatto una scelta univoca che è partita da noi, dalla realtà di ingegneria all'interno di ERA Tech, ma che si sta e si è estesa nel tempo anche alle altre business unit. Quindi è stato coinvolto il facility che forse avrebbe avuto ragioni quasi di partire prima ancora di noi, ma poi successivamente si sono fatte delle sperimentazioni anche in ambito reti. Noi siamo partiti dalla progettazione e realizzazione impianti, quindi dalle opere puntuali, perché ritenevamo che in quell'ambito ci fosse maggiore possibilità di trarre valore, insomma, dalla risoluzione delle interferenze, dalla complessità, dai dati che vogliamo mettere insieme e anche dalla costruzione di un futuro asset, di un futuro database che sia la rappresentazione digitale del nostro asset. Quindi siamo partiti da lì, ma come dico è stata una scelta di gruppo. Una scelta che ha portato a costituire un'area della quale io sono la responsabile, che è un'area operativamente a supporto della direzione di ingegneria e che mira sulle indicazioni della direzione di ingegneria a voler supportare tutti i progettisti e la direzione lavori. Cosa vuol dire? Non siamo un gruppo di persone che fanno BIM e basta, siamo quel gruppo di persone che supportano tutta la struttura e quindi i 200 professionisti a cambiare e a trasformare la propria professionalità e a acquisire i nuovi strumenti, a lavorare sia con nuovi strumenti, hardware e software, ma anche secondo nuovi workflow. Per questa ragione è stato poi necessario costruire, diciamo, quell'area di BIM management, un'area che avesse una vista sia strategica che operativa. In una realtà come la nostra, che è una realtà complessa, come vi ho con pochi numeri descritto, è importante che questa trasformazione non sia l'acquisto di quattro macchine e due software, ma che sia integrata completamente nei processi aziendali, perché questi processi vengono cambiati, vengono standardizzati anche delle modalità nuove e deve essere evoluto anche il modello operativo. Quindi siamo sostanzialmente lab nei confronti di ingegneria, nei confronti sia delle business unit che dell'IT, che è la direzione centrale del personale che deve individuare, ha individuato nel tempo nuovi ruoli, nuove competenze, nuovi corsi di formazione. Siamo l'interfaccia verso la direzione acquisti e appalti, perché anche noi come stazione appaltante abbiamo, stiamo cambiando le regole del gioco, nel senso che mettiamo in gara capitolati sia commerciali, capitolati speciali d'affalto, che capitolati informativi BIM, che capitolati tecnici declinati in maniera diversa. Per cui, insomma, un po' tutto il sistema e tutta la macchina deve avere consapevolizza che le esigenze sono diverse e in questo senso c'è bisogno di una vista aziendale strategica. Non solo, c'è bisogno anche di una vista però più operativa per entrare proprio nel merito dell'integrazione dei software verticali, dei software di autoring, di controllo, di piattaforme di collaborazione, dell'integrazione invece di quelli che sono proprio i verticali, l'ingegneria. c'è bisogno, insomma, di capire quelle che sono le esigenze specifiche del personale, sul training on the job, sulla formazione, arrivare magari anche a certificazione per le figure che appunto hanno maturato la giusta esperienza. Sviluppare proprio anche le linee guida, gli standard, i capitolati, avere quindi una regia nell'attività che svolgono i vari BIM coordinator che abbiamo formato nel tempo e che, dei quali, insomma, disponiamo in azienda e dando le indicazioni anche ai BIM specialist per quanto li compete. C'è bisogno di integrare i sistemi e i dati che vengono passati tra i vari sistemi per mirare a quello sviluppo di gemello digitale del futuro, nel senso che attualmente il nostro processo non è ancora entrato in ambito gestione, no? Stiamo parlando ancora di ingegneria e poi, vabbè, un'attività più di gestione proprio della della nostra struttura. Quindi, quali sono le competenze? Non c'è il BIM manager e basta, non c'è il BIM management non lo fa una persona, lo fa insieme a una serie di persone. Abbiamo BIM coordinator, abbiamo un CDE manager, abbiamo computational designer, abbiamo library manager, abbiamo gli specialisti disciplinari e degli specialisti tecnici. Abbiamo anche figure esterne, perché ovviamente c'è un carico di lavoro che talvolta non riusciamo a coprire completamente. Quindi abbiamo BIM specialisti esterni e modellatori esterni. tutte queste figure, tutte queste competenze che sono appunto specifiche, diversificate in funzione di quello che vogliamo ottenere, sono organizzate, le competenze hanno una loro collocazione in quella che è l'idea che noi stiamo portando avanti di trasformazione e che in realtà non è più un'idea, è una concretezza, insomma è quello che siamo noi oggi. C'è una realtà BIM, in particolare parlo ambito impianti perché sull'ambito reti siamo in fase evolutiva, lo avete visto un po' in quelle frecce della prima della rappresentazione di quello che sta facendo il gruppo ERA e siamo organizzati in modo tale da avere diversi livelli di permeazione del BIM con diversi scopi esiste il BIM nell'ambito del progetto quindi per ogni progetto noi abbiamo un BIM coordinator abbiamo degli specialisti disciplinari e abbiamo degli specialisti tecnici disciplinari cioè significa che in un processo di trasformazione esistono anche figure che ancora non sono state convertite al BIM come possiamo dire che hanno ancora modalità di lavoro diverse oppure semplicemente processisti che di fatto magari rimangono processisti e non vengono coinvolti in questa trasformazione quindi lo strato più basso nell'ambito dei progetti chiamiamolo così più specialistico è proprio quello degli specialisti tecnici disciplinari possiamo avere qualche ve lo dico dopo via così cerco di essere più chiara perché questo schema ci tengo molto e vorrei che riuscisse a riuscirlo a comunicare il livello superiore nell'ambito sempre di quello che è il progetto è quello dei BIM specialist disciplinari che quindi hanno una conoscenza avanzata dei software di autoring che lavorano direttamente proprio nell'ambito del progetto e poi abbiamo il BIM coordinator uno per ogni progetto che supporta il project engineer nel caso cui il project engineer non sia effettivamente voluto perché l'idea è quella di evolvere il coordinatore di progetto in BIM coordinator ove non lo sia il BIM coordinator è una figura che affianca l'ingegnere di progetto per il coordinamento proprio del progetto stesso ovviamente avrà in carico una serie di attività che Nicola poi vi illustrerà nel dettaglio nell'ambito invece degli standard aziendali perché come abbiamo detto la nostra struttura è una struttura che supporta trasversalmente quindi offre a tutte le varie aree anche degli standard pronti all'uso delle basi di riferimento sulle quali lavorare allora abbiamo uno strato più basso che è quello dei modellatori spesso le figure in gialle sono quelle che noi esternalizziamo mentre le figure in nero sono le figure che abbiamo internamente sono dei modellatori che spesso possono anche affiancarsi allo specialista tecnico disciplinare vedete che c'è un'area di sovrapposizione perché magari devo ricostruire lo stato di fatto di un impianto e non ho bisogno di avere un progettista evoluto ma mi può bastare semplicemente un modellatore che mi fornisce una serie di elementi standard di partenza stiamo standardizzando anche degli assiemi impiantistici per avere sempre di più dei riferimenti per il futuro e per accelerare anche la nostra progettualità abbiamo un secondo livello che è quello appunto dei modellatori più evoluti modellatori che possono essere anche più vicini ai progettisti quindi avere una conoscenza un po' più spinta ma che forniscono poi tutte le famiglie gli oggetti ricordiamoci che nell'ambito della standardizzazione sono tante le attività che dobbiamo mettere a disposizione ci sono i template ci sono degli script che possono agevolare il lavoro quindi sono attività che andiamo a far svolgere insomma ai nostri collaboratori in ambito standardizzazione e poi abbiamo alcune figure di riferimento che sono library manager e computational designer che sovrintendono a questa attività di standardizzazione il CDE manager è una figura che si trova un po' a metà perché ha in carico la piattaforma di collaborazione ma poi all'emergenza da supporto anche nell'ambito dei singoli progetti proprio per una gestione della collaborazione spinta e poi c'è l'inmanager che deve avere una visione d'insieme di quello che sta avvenendo sia ambito standardizzazione che ambito progettuale questo lo facciamo a casa nostra lo chiediamo e lo vogliamo anche fuori quindi abbiamo costruito un gruppo merci che ci consente di lanciare gare nell'ambito di gruppo di fornitori qualificati che si possono qualificare se esibiscono determinati requisiti quindi vogliamo anche che sul mercato ci siano le competenze che ci servono cerchiamo che ci siano figure BIM con le quali relazionarci quindi i nostri capitolati informativi sono capitolati informativi che chiedono un'organizzazione dall'altro lato di progetto strutturata in un determinato modo e abbiamo predisposto la mente di condivisione dati come richiede la normativa proprio per consentirci di lavorare correttamente oggi come siamo messi abbiamo all'attivo 17 progetti in ambito ciclo idrico 4 progetti in ambito energia e 3 in ambito ambiente i numeri non sono piccoli perché ne facciamo pochi ma perché calano in funzione della dimensione degli interventi noi abbiamo in ambito ambiente dei termovalorizzatori che stiamo realizzando con una progettazione appunto in DIMP e quello magari anche della vostra area saprete del termovalorizzatore di Padova così come dell'intervento che stiamo facendo di revamping sul termovalorizzatore di Trieste abbiamo un altro a Bologna qui ci sono solamente alcuni dei progetti insomma che stiamo portando avanti e chiudo passo la parola al mio collega che chiedo scusa spero di non aver sporato troppo i tempi chiudo dicendo cosa che noi abbiamo cercato di costruire un percorso dal 2018 in avanti che partisse da una sperimentazione e arrivasse a noi lo chiamiamo business as usual cioè vogliamo che il nostro business lavori in questo modo che il BIM sia dentro il nostro DNA e che si lavori bene quindi abbiamo fatto tanti piccoli passi in avanti anche non c'è tempo adesso ma insomma sulle simulazioni sul 4D sulla gestione del cantiere su l'impostazione di un 5D con strumenti di computazione che stiamo acquisendo proprio quest'anno per ottimizzare questa parte e le nostre competenze ci sono insomma riconosciute abbiamo citato solo un paio di link insomma se volete andare a vedere le esperienze che ci sono insomma che abbiamo riportato in alcuni casi quindi siamo anche orgogliosi di questo riteniamo però che a questo punto sia anche importante formalizzare il nostro percorso e richiedendo noi stessi certificazioni a chi lavora con noi ci rendiamo conto che oggi siamo maturi per affrontare un percorso di certificazione che non è che è per noi un segno distintivo diciamo senza senza una storia ma che è per noi un segno distintivo diciamo a fronte di un percorso che ormai conta alcuni anni chiaro non siamo i primi a fare BIM forse nelle utility sì e quindi insomma riteniamo che il percorso di certificazione ci dia questo ulteriore passaggio certificazione delle figure professionali e certificazione anche del sistema di gestione quindi stiamo rivedendo anche tutte le nostre procedure abbiamo già una linea guida di oltre 70 pagine abbiamo istruzioni operative abbiamo una serie di materiali da confezionare per giungere la certificazione lascio la parola a Nicola per darvi una vista di quella che è l'attività più specifica in ambito BIM coordination lui è uno dei nostri BIM coordinator e quindi credo che vi potrà illustrare nel dettaglio queste ultime parti grazie grazie Erika allora il lavoro del BIM coordinator all'interno di Eratec si declina su due diversi ambiti principali il primo è la standardizzazione il secondo è la progettazione per quanto riguarda la standardizzazione io e i miei colleghi dell'Ufficio BIM ci occupiamo sia di regolare le attività attraverso ad esempio lo sviluppo di linee guida BIM o standard aziendali sia di ambiti un po' più pratici come lo sviluppo di oggetti BIM che per noi sono famiglie di Revit dato che Revit è il software principale di Autoring che utilizziamo sviluppo di script per automatizzare i processi e ad esempio l'implementazione dell'ambiente di condivisione dati oltre a tutto questo teniamo anche sessioni formative per la progettazione per la costruzione sia per quanto riguarda i software specifici che per quanto riguarda i nuovi standard implementati passando invece alla progettazione noi entriamo in gioco praticamente su tutte le fasi del processo di progettazione dalla fase pre-gara quando andiamo a redigere a supporto del nostro BIM manager il capitolato informativo BIM nella fase di avvio del progetto andiamo a supporto dei BIM per impostare le attività e impostare noi stessi i modelli di progetto quindi i modelli sui quali poi i BIM specialist andranno a lavorare e a progettare nella fase di progettazione vera e propria andiamo a coordinare i BIM specialist coordiniamo i BIM specialist verifichiamo il rispetto degli standard aziendali e ovviamente facciamo i controlli informativi sui modelli BIM infine nella fase di costruzione andiamo a supporto della direzione dei lavori come con svolgendo simulazioni 4D questi due ambiti si alimentano ovviamente a vicenda in quanto la standardizzazione ci permette di ottimizzare e velocizzare la progettazione mentre la progettazione ci permette di testare i nuovi standard sviluppati e affinarli via via col tempo abbiamo degli strumenti a supporto per fare il nostro lavoro di BIM coordinator prima di tutto gli oggetti in questi quattro anni abbiamo sviluppato circa 900 oggetti che per noi appunto sono famiglie di Revit raccolti in libreria disciplinari e ogni oggetto fa riferimento a un proprio cluster per noi un cluster è un gruppo di oggetti accomunati dallo stesso set di parametri quindi ad esempio tutti i pilastri in calcio suzzarmato avranno tutti lo stesso set di parametri script sviluppiamo gli script per automatizzare i processi siamo sui 40 script abbiamo sviluppato gli standard grafici per ogni disciplina e per ogni fase progettuale questo per facilitare il lavoro sempre dei BIM specialist perché dovranno soltanto comporre la tavola e non dovranno pensare a impostare gli spessori di linea i colori creare etichette insomma tutto quello che è ruota intorno agli standard grafici come ultima cosa i template abbiamo template di modello di partenza e template di capitolati o specifiche di progetto quanto più ovviamente il lavoro di standardizzazione è corposo tanto più si facilita il lavoro dei progettisti e dei specialist e si velocizza anche il loro lavoro una delle attività principali e chiave del BIM coordinator è il controllo dei modelli noi lo splittiamo in tre attività il controllo della modellazione che facciamo tramite un plugin di Revit andiamo a controllare la qualità della modellazione e la pulizia del modello poi controlliamo i parametri noi lo facciamo con degli script di Dynamo quindi in modo semi-automatico o automatico andiamo a vedere se tutti i parametri che noi richiediamo per tutti gli oggetti sono stati inseriti e se sono stati compilati oltre alla nomenclatura degli oggetti che deve rispettare gli standard aziendali ultimo controllo il controllo delle interferenze geometriche e spaziali sia all'interno dello stesso modello che tra modelli diversi una volta che il BIM coordinator fa questi controlli crea un report che fornisce ai BIM specialist oppure ai fornitori di diri esterni perché facciamo tutto questo? perché l'introduzione della metodologia BIM ha portato come diceva anche Erika all'inizio maggiore complessità questa maggiore complessità da cosa è data? prima di tutto la maggior parte dei progettisti derivano dalla progettazione tradizionale quindi in CAD e non sono abituati a progettare in tre dimensioni oltre al fatto che progettare in tre dimensioni è più complesso rispetto alla progettazione in due dimensioni il BIM inoltre comporta una maggiore quantità di dati di oggetti e di standard da seguire come ultimo punto inoltre implica un nuovo modo di lavorare in modo collaborativo tutta questa complessità per forza di cose richiede quindi un maggior coordinamento e il maggior coordinamento ci permette di individuare e risolvere gli errori di progettazione le interferenze spaziali tra gli oggetti ci permette di gestire la gran mole di dati con i controlli automatici sui modelli ci permette di controllare i tempi e i costi di costruzione come dicevo all'inizio con le simulazioni 4D e attraverso l'utilizzo di un ambiente di condivisione dati impostato e implementato facilita l'interazione tra gli attori del progetto quindi come diceva anche Erika per il BIM manager anche il BIM coordinator necessita di competenze specifiche innanzitutto la conoscenza delle varie fasi necessità del processo di progettazione e costruzione e la conoscenza del contesto normativo in ambito BIM poi deve avere una conoscenza avanzata di software software sia di modellazione che di controllo dei modelli possibilmente anche di software basati su linguaggio di programmazione visuale l'esperienza pregressa come BIM specialist invece gli permette di accumulare quelle competenze che gli consentono poi di essere un punto di riferimento per il BIM specialist che andrà a coordinare quindi e chiudo per noi è importante che giungere a certificarsi a valle di un percorso di formazione specialistica e successiva esperienza così che la certificazione sia una conferma delle competenze acquisite delle varie figure BIM e possa essere anche un elemento distintivo in modo tale che noi in stazione appaltante riusciamo ad avere la certezza che quelle figure certificate siano effettivamente di livello rispetto a quello che c'è a giorno d'oggi quello che ci offre il mercato a giorno d'oggi e noi abbiamo finito e vi ringraziamo per l'attenzione grazie mille Erika e grazie mille Nicola per la vostra per la vostra testimonianza il percorso intrapreso da una stazione appaltante o da un committente come vedete è sicuramente oneroso sia in termini di tempo sia in termini di sborsi diciamo investimenti più che sborsi economici e questo tipo di investimento è quello che in maniera più o meno sostanziale dovrà affrontare chiunque si trovi all'interno della filiera delle costruzioni ma ripeto come dicevo prima con l'intervento di Mario Conte posso dire che per fortuna stiamo andando tutti verso questa direzione ripasso la parola all'ingegner Ruperto Francesco Ruperto ok ti sentiamo ciao buongiorno a tutti scusate per l'inconveniente di prima ma capita può capitare mi confermate che mi sentite io ti sentiamo perfetto ok buongiorno buongiorno di nuovo a tutti e grazie per 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 l'invito a questo a questo seminario io mi presento brevemente sono Francesco Ruperto mi occupo di questo tema che chiamiamo BIM da diversi da diversi anni diciamo da tre punti di osservazione diversi uno è quello accademico come Sapienza per otto anni ho coordinato il Master BIM di Sapienza che in otto anni appunto ha avuto più o meno 200 laureati di Master e ha avuto come dire un placement notevole lo dico soprattutto per confermare il fatto che come dire di richiesta di figure professionali BIM c'è ci sono c'è c'è richiesta e c'è soprattutto bisogno di competenze come diceva poc'anzi chi mi ha preceduto con Sapienza stiamo anche lavorando a supporto di un cantiere importante su Roma che è il nuovo headquarter di Enel sono 150 milioni di euro di appalto e siamo in supporto al committente la task force di Enel nel governare i processi di cantiere dell'impresa è collegata al PMO è collegata ai progettisti quindi diciamo il mio punto di osservazione è quello di ricerca e formazione sul tema BIM da qualche ormai da diversi anni e quindi l'abbiamo visto anche un po' in questi anni crescere la richiesta di competenze come diciamo poc'anzi il secondo punto di osservazione da cui guardo il BIM è quello normativo perché rispetto al tema normativo attualmente coordino il tavolo capitato informativo della UNI 11637 ho partecipato all'assessore del DM 56017 il cosiddetto decreto BIM e quindi come dire ho un punto di visione e ho avuto la fortuna di avere una prospettiva anche dal punto di vista legislativo e normativo il terzo punto di osservazione è quello che poi attualmente ci sta stressando in senso positivo di più ed è quello anche collegato alla qualificazione con cui oggi appunto mi presento a questo seminario è quella di da prima diversi anni fa come supporto alle pubbliche amministrazioni per le prime implementazioni del BIM la prima esperienza fu del 2015 la presidenza del Consiglio dei Ministri l'appalto era quello del Sagrario Militare di 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 Puglia scusate un lapsus quindi una prima esperienza in cui una stazione appaltante voleva cominciare a sperimentare questi processi in una procedura di di gara allora era un appalto integrato siamo nel 15 o nel 16 poco prima del nuovo codice dell'appalto questa evoluzione quindi poi di supporto alle pubbliche amministrazioni nello sviluppare framework BIM si è poi come dire è sfociata poi in un'esperienza importante di cui oggi in qualche modo parleremo che è quella dei mondiali di sci di cortina 2021 quindi la attività che messa a terra dal commissario di governo per la realizzazione delle opere pubbliche connesse ai mondiali di sci di cortina 2021 che come ricorderemo sono tenuti a febbraio dello scorso dello scorso anno è esperienza che si è conclusa da pochissimi da pochissimi mesi di cui però ecco magari qualche highlight di come qualche risultanza è interessante condividere e che è sfociata invece ora nel ruolo di responsabile della governance digitale della società infrastrutture Milano-Cortina 2026 quindi un'evoluzione che nasce nel BIM ormai sette anni fa e che poi mano a mano va ad allargarsi sempre dalla parte committente ad abbracciare anche altri aspetti del digitale che mi ha preceduto appunto rimarcava l'importanza di far vivere il BIM in organizzazioni che abbiano la cultura del digitale questo era abbastanza evidente anche delle prime esperienze crediamo che se la stessa cultura aziendale non sia permeata della cultura del dato anche il BIM a valle come stazione appaltante possa trovare meno valore quindi l'esperienza sulla società infrastrutture andrà ad abbracciare più aspetti del digitale compreso per la parte di progettazione il BIM infatti la società è una società che lavorerà come stazione appaltante come una società di ingegneria quindi avremo la possibilità di avere un ruolo e una responsabilità su un'app digitale aziendale che va poi a fornire supporto assistenza regole normative standard strumenti e quant'altro alle varie direzioni aziendali in un insieme coordinato di attività vi dicevo prima di passare proprio all'illustrazione un po' delle risultanze di Cortina 2021 credo che questo tema del BIM faremo un torto a questo tema se non lo inquadrassimo nel tema più ampio della trasformazione digitale che pure chi mi ha preceduto in qualche modo ha evocato quindi una trasformazione digitale di organizzazioni complesse che hanno a che fare con il settore costruzioni e qui già questa definizione apparentemente innocua diventa in realtà in moltiplice spaccettatura nel momento in cui andiamo a declinare quante sono le tipologie di organizzazioni che attengono il settore costruzioni i soggetti committenti le stazioni appaltanti le amministrazioni concedenti enti che hanno patrimonio enti che non hanno patrimonio da gestire soggetti come un commissario che realizza e poi chiude i battenti le società d'ingegneria le discipline che attengono all'ingegneria le società di costruzioni che a loro volta sono in qualche modo poi riconducibili a diverse tipologie tutte diverse appaltatori pubblici appaltatori privati chi fa il misto chi fa il promotore immobiliare quindi altre sfaccettature e senza senza parlare poi di tutto il mondo del management nel caso di management che apre come dire spalanca le porte a ulteriori gradi di complessità quindi ci andiamo a inserire col BIM in un'industria che è quella delle costruzioni che per definizione ha n dimensioni n tipologie di soggetti e quindi andare a cercare di standardizzare questi questo tipo di industria già in partenza è una operazione particolarmente faticosa è però necessaria ovviamente non saremmo neanche qui oggi tutti noi riuniti almeno la riteniamo tale utile ma utile non al fine di se stessa utile e necessaria al fine di estrarre valore da queste attività digitali che anche qui si diceva prima costano costano in termini di strumenti costano in termini di competenze hanno una serie di prime anche resistenze da parte delle organizzazioni abituate a lavorare in un'altra maniera quindi estrarre valore quindi trasformarsi digitalmente per estrarre valore il valore può essere poi in qualche modo declinato a sua volta in modalità economiche sostenibilità ambientali velocità di esecuzione qualità del prodotto e così via però questo tema della della moltiplicità della delle tipologie di soggetti che attengono alla catena di fornitore delle costruzioni è per noi essenziale perché dà in qualche modo proprio nell'obiettivo di estrarre valore la prospettiva da cui leggere quel processo quindi BIM abbiamo parlato negli anni sul campo BIM per l'impresa di costruzione ha dei significati BIM per la stazione appaltante ne ha altri che non sono diversi ma che sono tutti come dire riconducibili a livelli di efficienza anche se probabilmente con strumenti diversi analizzando dati diversi raccogliendo qualità di modalità diversa in tempi diversi dicevo l'importanza della natura dell'organizzazione perché da questa consapevolezza nascono poi le esigenze e quindi vanno in qualche modo fotografate delineate studiate vanno vanno poi a balle percepiti quali sono i requisiti esigenziali che vogliamo soddisfare in termini organizzativi in termini di commesse in termini di mobili di cespiti in questo per chi è come dire dentro al tema diciamo che ci ritroviamo molto in quello che le norme soprattutto le norme ISO dicendo delineano come l'information management del settore costruzioni per cui appunto il punto di prospettiva il punto di lettura la definizione degli obiettivi la definizione delle esigenze degli obiettivi dopo va a definire quali sono poi gli usi del BIM che a livello aziendale vengono in qualche modo a portare valore oltre che come dire l'adempimento legislativo che ci interessa che ci interessa il giusto e in questo in questo quindi rifarsi al tema esigenziale al tema degli obiettivi al tema degli usi il tempo ci ha un po' insegnato a ricondurre questi ambiti a quelli principali dell'information management ovviamente che può essere anche ulteriore rispetto ai modelli informativi dimensionali ma esso correlabili al tema del project management poi in quelle immagini iconiche ormai della 19-50 perché ce l'ha presente dei tre cerchi e cornici concentriche fino ad arrivare a quella che poi è il sistema di gestione delle organizzazioni quindi tutto quel mondo che normativamente parlando fa riferimento alla serie 9000 delle ISO quindi le complessità si sommano si aggiungono si sviluppano con l'obiettivo finale appunto di portare a casa valore valore che ha un significato diverso diciamo prima in dipendenza della natura del soggetto del soggetto stesso in un mondo virtuoso il valore potrebbe ritrovarci tutti invece a riconoscere il progetto finito che è in un processo win-win che è andato bene per chi l'ha commissionato ha funzionato perché ha portato utile a chi l'ha realizzato a chi l'ha progettato a chi l'ha realizzato e porterà anche usi non solo a chi lo gestirà in quanto cespite ma magari anche a chi lo utilizzerà in quanto fluidore in quanto cittadino se parliamo di opere di opere di opere pubbliche ci ho detto due due parole anche su quella che è stata l'esperienza dei mondiali dc di cortina 2021 e in parte anche invece quelli che sono gli auspici a oggi perché siamo partiti da pochissimo tempo della società infrastrutture Milano-Cortina sul tema digitale cortina 2021 il programma di trasformazione digitale oggi lo chiameremo lo chiamiamo gestione digitale del piano degli interventi poi in realtà abbiamo capito che era da mettere a terra una vera e propria trasformazione digitale del modo di lavorare dei soggetti parte nel 17 e parte dalla necessità dall'esigenza anche qui in capo al commissario di governo di monitorare tempi legalità e costi delle opere questo era il mandato che il DL il decreto legislativo 5017 dava al commissario di governo per i mondiali dc di cortina 2021 da questa esigenza ripeto siamo nel 17 siamo immediatamente a valle del decreto BIM se dobbiamo rinquadrarlo in un periodo storico era il dicembre 17 si ha la consapevolezza se volete anche un po' la visione più che la consapevolezza forse più la visione la prospettiva che soltanto aiutando il gruppo di lavoro con delle tecnologie digitali avremmo potuto portare a terra a casa quell'obiettivo di realizzare opere pronte per il mondiale dc per il febbraio 21 avendo poco tempo avendo tanti interlocutori diversi un gruppo di lavoro che si formavano ad hoc stazioni appaltanti dislocate sulla provincia di Belluno i rapporti con la regione Veneto la stazione appaltante di Anas e così via e nacque quindi nella costruzione prima ancora che di modelli di capitoli informativi BIM che ci sono stati quindi tutte le opere appaltate sotto legge del commissario di governo di cortina 2021 sono state appaltate secondo il BIM quindi secondo un capitolo di informativi elaborati secondo standard dell'organizzazione ma prima ancora di questo e qui turno al tema dell'organizzazione è stato importante portare su modalità digitali il modo di lavorare degli operatori della delle delle stazioni appaltanti dei vari stakeholder e quindi in questo è stata un po' costruita l'esperienza denominata all'epoca open cortina che ha provato appunto su una su una infrastruttura cloud i primi schemi i primi modelli organizzativi di gestione digitale di un piano di interventi di opere di opere pubbliche un piano che ha avuto delle delle criticità che ha avuto delle resistenze e anche questo mi piacerebbe parlare di questo perché dipingiamo sempre un mondo fantastico collegato al BIM ma non tutti hanno l'interesse nella catena di fornitura a lavorare in una certa modalità e bisogna pure che ce lo possiamo che ce lo diciamo che ha avuto la resistenza dal cambiamento del modo di lavorare da parte degli operatori delle stazioni appattanti degli operatori degli uffici e così via e questo è un fattore importante da misurare ma che ha avuto anche dei benefici degli effetti benefici penso uno di tanti aspetti toccati dalla piattaforma open cortina era quello legato alla legalità ecco il poter condividere con le forze dell'ordine della prefettura di Belluno i dati in tempo reale provenienti dai cantieri ha consentito dei controlli maggiormente efficaci nel prevenire infiltrazioni mafiose sui cantieri di cortina ecco tutto questo come dire tutta questa esperienza che comunque è durata tre anni è la base di partenza su quella che sarà un po' che è l'auspicio invece della società di infrastrutture Milano cortina 2026 quindi di ereditare il meglio e anche il peggio direi dell'esperienza di cortina 2021 di portarlo a un livello superiore di sviluppo e quindi in qualche modo di sviluppare una se dovessimo usare un'astag che è molto di moda potremmo usare digital twin in questo momento ma non soltanto digital twin inteso come prodotto risultante ma anche in digital twin dei processi aziendali interni ed esterni quindi abilitati da queste tecnologie digitali che in qualche modo anche qui su questa nuova sfida in cui in soli 4 anni vanno avesse a terra una serie degli investimenti importanti appunto andare a supportare il gruppo di lavoro nel fare bene e presto il piano di interventi che si sta definendo e che verrà sempre meglio di più parato come riferito al piano olimpico quindi di cortina di 2021 vi ho raccontato come dire un consuntivo di 2026 vi sto raccontando un auspicio ma questo auspicio è tanto forte e qui concludo proprio significando nella costituzione della società stessa una divisione una direzione di governance digitale quindi riconoscendo a questo tema digitale non più un'importanza residuale rispetto all'organizzazione ma incardinando una direzione ad hoc per la gestione di questi ambiti riconoscendo quindi implicitamente un valore all'information management abilitato a tecnologie digitali quindi spero che abbiamo modo di poterne riparlare anche più avanti con le prime esperienze che porteremo sul nuovo progetto grazie grazie francesco molto volentieri spero di poterne riparlare sottolineo un concetto che hai detto più di una che hai espresso più di una volta cioè quello di valore andando a innestare un processo di gestione informativa centrata ovviamente su attiche digitali andiamo ad aumentare quello che è il valore non solo della progettazione ma di per sé di tutta l'infrastruttura valore che se andiamo bene a guardare è un valore aumentato non solo per il progettista o l'impresa di costruzioni ma soprattutto per l'owner qualsiasi esso sia quindi è molto importante cercare di capire e soprattutto di iniziare a percepire questo aumento di valore all'inizio sembra intangibile anzi come diceva prima anche Erika costa tanto software costano tanto e consulenze perché alla fine servono comunque i consulenti esperti per dare una direzione ma il valore generato nel secondo momento nel medio termine nel breve faccio fatica inizialmente a vederlo è veramente molto molto importante grazie mille quindi Francesco adesso passo la parola all'ingegner Carlo Zanchetta ricercatore dell'università di Padova nonché componente del gruppo di lavoro BIM di FOIB prego Carlo Carlo l'ho visto collegato prima chat eccolo qua perfetto mi sentite buongiorno adesso adesso sì ciao Carlo ok ciao a tutti allora intanto grazie per l'invito e grazie anche per la partecipazione che vedo numerosa e attenta e poi a nome anche del gruppo di lavoro del FOIB volevo ringraziare tutte le persone che hanno risposto positivamente a questa chiamata alle armi per condividere un po' di esperienze su luci e ombre della digitalizzazione di questa transizione digitale io sono Carlo Zanchetta sono un ingegnere laureato qui a Padova un numero vergognoso di anni fa adesso sono ricercatore qui a Padova e a vario titolo mi occupo di processi di digitalizzazione standardizzazione informativa allora condivido lo schermo vi chiedo conferma del fatto che riuscite a vedere il mio schermo sì vediamo la mia presentazione perfetto quindi faccio partire la presentazione bene allora io oggi presento un piccolo contributo su quello che è il processo di digitalizzazione la transizione digitale che abbiamo affrontato qui all'università degli studi di Padova e quindi ho chiamato questa presentazione progettare la transizione progettare la transizione e in generale il contributo di un IPD su questo processo di digitalizzazione è molteplice e quindi con questa prima slide volevo un pochino sintetizzare in che modo l'università degli studi di Padova sta rispondendo a questo processo di transizione chiaramente un primo tema una prima attività è quella della standardizzazione che ci vede coinvolti da un lato a vario titolo nella partecipazione ai comitati di redazione di alcune norme cogenti altre anche con Francesco in relazione allo sviluppo delle norme tecniche quindi alla traduzione in norme volontarie su quelli che sono i protocolli di digitalizzazione di standardizzazione informativa e infine a quello che è lo sviluppo degli standard perché poi è importante comprendere come se dobbiamo digitalizzare dobbiamo insegnare delle macchine a fare quello che normalmente facevamo parlando tra persone e questo comporta un significativo sforzo di standardizzazione informativa cosa che in termini correnti si definisce IFC poi ci sono anche altre derive COBI XML così di questo tipo contestualmente però l'università di studi di Padova risponde a queste tematiche anche con delle attività di ricerca e sviluppo e quindi fondamentalmente questa standardizzazione è un percorso processo in evoluzione quindi è fondamentale capire come lo standard oggi disponibile più o meno risponda adeguatamente a quelle che sono le esigenze dell'utenza ma contestualmente quello che cerchiamo di fare è ok allestire modelli BIM ma soprattutto accompagnare processi di progettazione assistita quindi elevare la ricerca e la sperimentazione da quello che può essere la semplice produzione di un modello che restituisce il risultato di un progetto a quello che è un percorso di progettazione assistita che cerchi di qualificare appunto questo percorso progettuale fino a poi a sviluppare quelli che possono essere le definizioni di protocolli di implementazione di questi standard presso alcuni enti privati o pubblici che siano in particolare in questo momento siamo coinvolti con alcuni enti quali ad esempio il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per quelle che possono essere le linee guida BIM per il rilascio del certificato di prevenzione di incendi su base digitale chiaramente questo sarà un nuovo paradigma un paradigma nel quale non viene più presentata una pratica attraverso un supporto documentale ma semplicemente dovrà essere presentato un modello informativo tale per cui l'ente competente rilascerà un certificato di approvazione della proposta di progetto sulla base del contenuto di quel modello tutto questo poi si traduce in attività di formazione quindi fondamentalmente una formazione che ci vede coinvolti nella creazione di competenze digitali presso i nostri studenti ma anche presso aziende o associazioni di categoria ma l'altro tema che ci vede coinvolti nella transizione digitale è quello della digitalizzazione interna quindi dell'implementazione di queste soluzioni presso l'Università degli Istituti di Padua che a sua volta è un ente pubblico e quindi diciamo che la buona parte della presentazione addierna riguarderà il progetto Unione è evidente che l'insieme dei processi di standardizzazione e di ricerca e sviluppo contribuisce alla creazione di contenuti atti anche a sensibilizzare l'utenza insomma le persone interessate su quello che è appunto questo passaggio alla gestione digitale della trasformazione antropica dell'ambiente e tutto questo noi lo facciamo poi confluire nell'attività di formazione non ultimo quello che è un po' l'esperienza che stiamo conducendo su l'implementazione all'interno del progetto Unione di questi protocolli digitali ora io sorvolo un po' su quelle che sono le specificità dei primi tre punti che si richiederebbero una giornata separata appunto per parlare di cosa significa standardizzare la disciplina della prevenzione di incendi della sicurezza del quantity take off della programmazione eccetera eccetera mentre invece volevo concentrarmi su questo progetto che sto ordinando perché questo mi permette di focalizzare l'attenzione sul tema delle competenze ho sentito giustamente parlare molto di acquisizione di software acquisizione di risorse umane certificate eccetera 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 e questo è sicuramente importante quello che però vi voglio raccontare è come poi alla fine si tratti soprattutto di un cambiamento di paradigma cioè fondamentalmente il progetto Unione è un progetto di implementazione di soluzioni digitali per la gestione sostenibile degli asset di Ateneo ora Università degli Studi di Padova è un asset che si estende su 180 edifici più di 20.000 avani 600.000 metri quadrati di superficie l'or del pavimento per un valore assicurato di circa un miliardo e mezzo di euro e questo è un sistema complesso ma ancora più complesso il sistema delle risorse umane è atto a governare questo sistema che vedete rappresentato nella parte inferiore della slide quindi l'Università degli Studi di Padova da un punto di vista della gestione tecnico-amministrativa è organizzata in diverse aree funzionali in particolare dal punto di vista se vogliamo squisitamente immobiliare ce ne sono alcune particolarmente coinvolte come ad esempio l'area patrimonio-logistica l'area edilizia e sicurezza l'area dei sistemi informativi ora tutte queste aree parliamo di circa 4.000 persone di personale tecnico-amministrativo devono coerentemente gestire informazioni al fine di gestire asset immobiliari al meglio delle loro potenzialità voi capite come qualsiasi processo edilizio possa essere frazionato in diverse fasi quindi in fase di programmazione programmazione economico-finanziaria atta a espandere o rinnovare il property immobiliare di Ateneo per meglio rispondere alle esigenze didattiche di ricerca la fase di progettazione in cui commissioniamo dei progetti per poi portarli in realizzazione e infine gestirli chiaro che se questo fino a ieri richiedeva l'attivazione di una struttura di gestione tecnico-amministrativa oggi anche alla luce dei decreti del decreto 560 ciò in poco importa l'attivazione di una struttura di gestione informativa è chiaro che questa struttura di gestione informativa si può tradurre nell'acquisizione oltre che di software di competenze quindi di risorse umane però è chiaro soprattutto che questa struttura di gestione informativa ha la finalità di fornire l'informazione a chi poi una decisione la deve prendere in particolare il management board di università di studi di Padova che sulla base delle informazioni che l'asset produrrà in particolare a livello di gestione saprà prendere le migliori decisioni in fase di programmazione come viene attuata questa transizione questa trasformazione è anche della modalità operativa di persone che non è che con tutto rispetto per i colleghi prendiamo buttiamo via quelli che erano le risorse umane fino a ieri operanti e andiamo a farcire un'università di studi di Padova di un esercito di team specialist di team manager fondamentalmente noi dobbiamo arrivare anche attraverso l'acquisizione di nuove competenze a veicolare nuovi capitolati informativi per la fase di progettazione per la fase di realizzazione per la fase di gestione e quindi monitorare quelli che sono i processi di digitalizzazione processi di digitalizzazione che possono essere o S-Built quindi una digitalizzazione appunto dettagliata avere database edilizi dettagliati o una digitalizzazione invece preliminare quindi dei modelli informativi tutto sommato abbastanza schematici abbastanza poveri ma che fondamentalmente danno una risposta a una domanda cosa dobbiamo conoscere è importante conoscere tutto di qualcosa o qualcosa di tutto in questo momento l'Università di Padova sui nuovi edifici vorrebbe arrivare ad avere un sistema solido dal punto di vista informativo ma è chiaro che su quei 180 edifici vuole avere una conoscenza di qualcosa ma di tutto perché? Perché su questo qualcosa come potete vedere si fonda un po' la capacità di governo e quindi fondamentalmente se in fase di progettazione di realizzazione su alcune attività che abbiamo in essere in questo momento il nostro obiettivo è quello di arrivare ad avere degli S-Built digitali su base informativa su base database BIM viceversa per affrontare in maniera chiara la fase di gestione abbiamo oltre che gli S-Built che stiamo producendo anche una traduzione preliminare e quindi fondamentalmente per affrontare questo passaggio questa transizione una delle prime attività che ci ha visto impegnati per un annetto è stata proprio quella della definizione di un capitolo capitolato gestionale atto ad acquisire una piattaforma di gestione e attenzione piattaforma di gestione non è neanche più parlare di BIM ma è parlare di un'altra tecnologia ancora che è una tecnologia definita appunto computer ID di facility management o CMMS a che dir si voglia e questo è stato particolarmente importante perché questo capitolato che tra l'altro è uno dei primi in Italia capitolati informativi per l'acquisizione di piattaforme digitali per i facility management è un capitolato che ha messo in luce tutta una serie di esigenze a livello di circuitazione del dato e dell'informazione sono state scritte e sulle quali si sono esibiti anche dei criteri valutativi in base alle offerte che sono state raccolte e questa attività di censimento delle informazioni è un'attività che è stata condotta sempre in maniera collaborativa con tutte le risorse di Ateneo andando fondamentalmente a tracciare tutte le esigenze quale informazione ti serve in quale documento è catalogata qual è il processo nel quale condividi quell'informazione sei tu che la scrivi o sei qualcun altro redattore di questa informazione e capire poi come diverse piattaforme disponibili del mercato rispondano a queste esigenze funzionali e questo fondamentalmente ci ha permesso di mettere in luce tutta una serie di strategicità nel panorama attuale della offerta di soluzioni digitali per il facility management che poi ci ha portato ad acquisire la piattaforma che è risultata vincitrice di questo dialogo competitivo il terzo step è poi quello della effettiva digitalizzazione e anche qui digitalizzare non è semplicemente un fatto di conoscenza di un'applicazione ma è soprattutto un fatto di organizzazione di un gruppo di persone ed è soprattutto una tematica di definizione di processi di messa in luce di alcuni gordi se vogliamo operativi che a volte si fa fatica a dirimere perché fondamentalmente come potete vedere anche semplicemente il fatto di mettere su base digitale una documentazione preesistente è un fatto particolarmente complesso per cui anche qui abbiamo dovuto creare degli strumenti partendo anche da strumenti attualmente disponibili quindi banalmente una piattaforma documentale quindi non semplice non una piattaforma evoluta una piattaforma di gestione digitale una piattaforma documentale come SharePoint sulla quale siamo andati a creare a far confluire tutte le repository documentali pregresse sulle quali poi siamo andati a fare prima ancora che BIM management document management quindi associare dei metadati delle tag a tutti i documenti per arrivare a fare una sorta di validazione questa validazione un po' ci ha permesso di mettere in ordine tutto il patrimonio documentale che avevamo ma soprattutto ci ha permesso di cominciare a organizzare il dato di partenza per poi centralizzarlo all'interno di modelli informativi di BIM perché sono così importanti questi modelli informativi di BIM perché rappresentano quella molto semplice in questo caso si tratta di processi automatizzati di generazione di modelli partendo da CAD a disposizione dell'Ateneo ma una volta che abbiamo a disposizione questi modelli possiamo arricchirli e quindi fondamentalmente attraverso procedure di sincronizzazione del dato siamo andati a popolare questi database BIM e tutta una serie di dati che ci servono a fare che cosa a fare gestione corrente con assunzione anche di consapevolezza su certe scelte e certe criticità un primo tema che vi faccio vedere proprio per spiegare come non sia solo il BIM manager ma le competenze di cui vogliamo parlare sono competenze estese cioè abbiamo delle competenze centrali che sono quelle proprio di azione di governo della processo di digitalizzazione ma altre competenze sono competenze invece legate alla trasformazione del modo superandi di chi fino a ieri gestiva i propri processi su base analogica chiamiamola così ed oggi è chiamato a fare questo su base digitale non solo mi sentite ancora bene sì perché mi è arrivato un messaggio di errore ok l'animazione che vedete è fondamentalmente una pagina web creata in Apex in cui si fa vedere come le persone preposte alla tracciabilità delle collocazioni delle risorse umane all'interno dei locali non va a scrivere un nome all'interno di una cella ma viene sincronizzato il database che pubblica l'area risorse umane contenente tutti i riferimenti delle persone fisiche con il database dei locali che invece è gestito dall'area patrimonio logistica quindi fondamentalmente se fino a ieri qualcuno poteva scrivere Carlo Zanchetta e sembrava che Carlo Zanchetta fosse qualcuno di diverso da Carlo Zanchetta presente all'interno del locale 113347 oggi invece è semplicemente un collocare la risorsa A nella classe informatica B questo è il concetto questo cambiamento di paradigma è sicuramente un cambiamento importante perché poi vedete una volta popolati letteralmente questi edifici con le risorse umane quelle presenti o quelle che frequentano gli spazi di Ateneo per esigenze didattiche possiamo fare tutta una serie di attività di controllo e di gestione in questo caso vedete una semplice simulazione legata a quella che è la prevenzione incendi quindi verificare ad ampio spettro quella che è la conformità edilizia dal punto di vista della sicurezza ma l'obiettivo è proprio quello di arrivare a delle piattaforme di gestione per la parte impiantistica anche qui è un cambiamento di paradigma per cui fondamentalmente vedete il tema interessante è attraverso la modellazione BIM validare quelli che sono gli S-Built che abbiamo a disposizione anche qui ci siamo accorti di alcune non conformità che avevamo ereditato ma soprattutto vedete se centralmente andiamo ad avere la nostra piattaforma documentale che ci permette di censire tutti i documenti esistenti a livello S-Built non ultime le schede prodotto nei modelli possiamo andare a collocare il riferimento documentale a queste schede prodotto e quindi fondamentalmente per venire una doppia validazione quindi da un lato il modello mi racconta l'effettiva realtà dell'edificio dall'altro mi dice verifichiamo che di tutti questi dispositivi presenti negli elaborati S-Built siano presenti le schede prodotto questo per arrivare ad attuare una politica di gestione su base digitale che sia sostenibile che sia come dire verificabile che sia consistente anche qui l'associazione di processi di manutenzione agganciati ai singoli dispositivi è un processo particolarmente ampio però anche qui la digitalizzazione e in particolare la standardizzazione della digitalizzazione che cosa ci ha portato a condividere con persone che fino a ieri parlavano di ticket ci ha portato a far capire come non parliamo più di un fan coil una unità di trattamento dell'aria ma parliamo di un sistema impiantistico al quale nel suo complesso sono agganciate delle proprietà dei documenti e dei cicli manutentivi quindi è chiaro che da un lato c'è la necessità di avere competenze digitali per la creazione di questi database dall'altro è importante avere competenze digitali per far sì che questa trascrizione digitale avvenga su basi standardizzate il più possibile perché perché poi dopo questo può essere tradotto in processi digitali e soprattutto politiche manutentive queste politiche manutentive in realtà pescano nella know-how nella cultura di persone che ieri lavoravano in un modo oggi sono chiamate a lavorare in un altro modo ma la loro cultura non è cambiata si è arricchita e questo è un tema dal mio punto di vista assolutamente centrale in conclusione cosa voglio dire che è evidente che la disponibilità di una transizione digitale la disponibilità di un database edilizio condito in questo modo è una grande opportunità però come ci racconta Spider-Man da grandi poteri derivano grandi responsabilità e quindi fondamentalmente quello che noi dobbiamo cercare di arrivare a condividere in un processo di transizione digitale è appunto questo percorso di standardizzazione che guardi alla standardizzazione globale come a un capitale come a un fattore abilitante ma che poi si concentri anche su una standardizzazione in locale presso l'ente e in questo processo di standardizzazione interno vive la possibilità di elevare le competenze di quei soggetti che fino a ieri lavoravano in un modo e non è che domani spariscono per arrivare in pensione Dio non voglia domani arricchiscono questo processo di digitalizzazione con le loro competenze questo è un pochino un messaggio che vorrei lanciare per porre come dire queste nuove figure del BIM manager del BIM coordinator del BIM specialist nella posizione che gli è preposta ma soprattutto far capire come la chiamata alla digitalizzazione non sia semplicemente un percorso di acquisizione ma sia soprattutto un percorso di trasformazione io vi ringrazio per l'attenzione e spero con questa piccola presentazione di aver arricchito un pochino la visione su questo tema che è un tema che personalmente mi appassiona anche ma soprattutto un tema sul quale è importante capire in che modo alla parola BIM alla parola digitalizzazione non sia semplicemente accostabile la parola costi ma sia importante accostare la parola assumiamoci queste responsabilità perché abbiamo a quel punto grandi poteri grazie mille e buon proseguimento grazie mille Carlo molto importante anche questo punto di vista dell'università di Padova anche perché i nuovi progettisti i progettisti di domani passano attraverso gli enti di formazione quale l'università e quindi avere università che già in prima fase iniziano già ad avere un approccio all'informazione e alla gestione informativa è molto molto importante e più che altro si va a limitare o meglio a ridurre quello che è il gap tra le competenze necessarie digitali e quelle che vengono date da un insegnamento tradizionale che fu a 6-7 anni fa a quello che veniva dato in maniera diciamo di base bene siamo direi in perfetto orario e adesso passiamo la parola invece a la società di una società di progettazione fino ad ora abbiamo visto quindi le esperienze i punti di vista e anche le volontà di alcuni committenti di enti pubblici adesso invece interviene l'ingegner Federico Zaggia di FM Ingegneria socio e responsabile del settore project management di FM Ingegneria prego prego l'ingegner Zaggia buongiorno a tutti buongiorno grazie per l'invito vado subito a condividere lo schermo con la presentazione non so se la vedete sì la vediamo allora faccio un piccolo presentazione veloce poi vado subito al sodo allora io sono l'ingegner Federico Zaggia uno dei soci di FM Ingegneria una società di ingegneria con la sede principale a Mirano in provincia di Venezia che esiste da oltre 40 anni e che si occupa di ingegneria civile di infrastrutture e di servizi di project management è una società che si è sviluppata negli anni abbiamo presenza ovviamente nazionale con Venezia Milano e Roma poi anche una serie di società all'estero e nel Medio Oriente da molti anni più recentemente in Francia in Albania e in Germania anche anche in Germania da più di vent'anni ormai e questo casalto mi già consente anche di avere una visione un pochino più europea di che cosa intendono come si sviluppano i processi BIM in giro per il mondo e non è vero che noi siamo magari come spesso viene detto il fandalino di coda anzi in questo ambito io vedo che invece l'Italia è anzi è ben avviata in questo processo di digitalizzazione all'interno dei processi quantomeno di progettazione è un gruppo il nostro che occupa circa un centinaio di persone in Italia e circa altrettante all'estero nelle varie sedi straniere e copriamo un po' tutte le discipline dall'architettura anche se l'architettura è più principalmente architettura esecutiva architettura tecnica e noi lavoriamo sempre con o quasi sempre insomma con altri professionisti in particolare con architetti copriamo invece lo spettro di tutte le attività di ingegneria tipiche dell'edilizia quindi dalle strutture agli impianti prevenzione incendi e geotecnica poi c'è un settore che si occupa in particolare di infrastrutture stradali marittime portuali terminalistiche e un settore di project construction management dove all'interno ci sono i PM stretti ma anche la direzione di lavori che si occupa di sicurezza e poi c'è un dipartimento CAD e BIM ovviamente trasversale che è a servizio di tutte queste varie unità operative la struttura della società abbastanza classica ovviamente negli ultimi questa società ha deciso di approcciarsi al BIM già più oltre dieci anni fa e ovviamente facendo piccoli passi anche perché non puoi fare non puoi avanzare da solo ma è un po' una filiera che deve accompagnarti o quantomeno anche i colleghi o le persone con i quali si lavora e si è adesso comunque da un po' di anni a un ufficio di BIM composto da alcuni BIM manager BIM coordinator BIM specialist come avete ben descritto i colleghi precedentemente poi abbiamo un ufficio di project management dove poi c'è un portfolio manager un program manager o il project manager che gestisce la singola commessa e poi ci sono le varie discipline del project development sicurezza antincendio costi quantity surveying la direzione lavori e poi il business development che è suddiviso c'è un dipartimento che si occupa principalmente di gare pubbliche e un dipartimento che si occupa di gare internazionali supportato da un ufficio comunicazione e marketing e nello specifico nel BIM abbiamo circa si abbiamo certificato l'azienda si è certificata quindi CMQ nel 2018 e anche il personale BIM è sempre via via ovviamente certificato mano a mano abbiamo un chief data officer ci sono tre con la qualifica di BIM manager 5 BIM coordinator e una serie di BIM specialist per le singole discipline tra struttura architettura e impianti ci basiamo come principali tecnologie software su Autodesk abbiamo un tot numero di licenze già ormai dal 2016 Solibri come software principale che per il model checking e validazione e come piattaforma di CDE recentemente utilizziamo sempre più spesso Trimble Connect ovviamente oltre a tutte queste tecnologie che sono citate qui in questa presentazione come tecnologia BIM in realtà tutte le nostre software si interfacciano con questi strumenti principali e sono i software tipici di BIM motoring e di del nostro workflow interno per lavare le progettazioni energetica impiantistica e strutturale ovviamente ci sono una serie di 20.000 altri software che vengono utilizzati in azienda vi dico subito ad esempio anche per entrare così magari vi do visto che ho un ruolo manageriale all'interno non sono un operativo BIM ho sempre supportato questa tecnologia da molti anni questo processo però sono più mi occupo più di gestione dei singoli progetti o di gruppi di progetti o dell'azienda stessa per dire che i costi che noi affrontiamo annualmente superano i 200.000 euro all'anno di costi di software per darvi un'idea di cosa c'è anche dietro di un'azienda media come la nostra anzi piccola per lo standard internazionale sicuramente e magari media medio grande per lo standard italiano che sappiamo essere molto frammentato nell'ambito dell'ingegneria e ancora di più dell'architettura e che quindi è uno scoglio molto importante per l'implementazione di questo metodo perché comunque c'è un certo investimento sia nei software che poi come abbiamo discusso prima con i colleghi molto sulla formazione del personale e sulla adattabilità della società di questi nuovi sistemi di condivisione dei dati e qui va bene nelle fasi del progetto le conosciamo noi ci occupiamo pianificazione e progettazione siamo coinvolti nella fase della costruzione perché offriamo ovviamente servizi in direzione dei lavori siamo meno coinvolti nella fase di operate della gestione dell'immobile perché non ci occupiamo molto di facility management e ovviamente noi ripartiamo con degli altri cicli progettuali cito questo perché ovviamente per me la cosa importante è capire qual è lo scopo del BIM il perché lo utilizziamo e qual è veramente il fine ultimo di questo processo che sicuramente ha dato ci ha aiutato molto ma ovviamente è stato anche ed è tuttora un qualcosa di molto difficile è stato un cambio abbastanza epocale su una società d'ingegneria come la nostra che era completamente basata sul 2D e sul CAD e sulla tradizione è stato uno sforzo che ha coinvolto non solo queste specifiche professionalità che via via abbiamo formato raccolto ma ovviamente chiunque qui dentro ha fatto corsi per anni per capire di cosa stavamo parlando per essere inseriti in determinati scambi di informazioni perché ovviamente il valore della nostra società è dato anche dalle persone che lavorano qui e delle loro competenze maturate in decenni di esperienza e devono comunque essere coinvolte all'interno di questo processo sugli usi del modello che facciamo qui dentro sono un po' credo abbastanza standard ovviamente il modello BIM lo utilizziamo per poi estrapolare i laborati grafici per fare il computometrico dobbiamo fare il processo di model checking di code checking crash detection cosa che abbiamo già citato prima fino ad arrivare fino a analisi luminotecnica quindi ogni i vari usi del modello che qui dentro vengono utilizzati qui sorvolo poi magari volevo andare più a parlarvi di qualche caso applicativo per entrare un pochino più nel vivo e comunque abbiamo vari workflow all'interno di questa società per le varie discipline poi abbiamo un protocollo IFC che ci consente di scambiarci con i vari software per poi arrivare a una gestione a utilizzare il modello come veramente fulcro di tutto quanto per i computi per la direzione dei lavori per la manutenzione ad esempio questo è uno schema che utilizziamo da un po' facciamo insomma la direzione dei lavori in ambito BIM per rispondere poi ad alcuni capitolati uno proprio dell'università di Padova per una gara penso che abbiamo vinto era comunque una richiesta anche una direzione dei lavori in ambito BIM per cui abbiamo anche un po' ci siamo fatto qualche passo avanti qualche anno fa per continuare la direzione dei lavori in questo utilizzando sempre il modello come elemento centrale passo ad iscrivervi un caso applicativo così magari entriamo un pochino più nel vivo di quello che si respira poi in una società ingegneria come la nostra questo è un albergo che stiamo progettando per l'isola di Murano e siamo quasi in dirittura d'arrivo quindi siamo prossimi poi a lanciare gli appalti in questo caso ci occupiamo di project management complessivo costi e ingegneria di strutture impianti e anche consulenze accessorie quali consulenze di certificazione lida acustica ambientali e quindi abbiamo un ruolo abbastanza centrale che non è da sottovalutare di quanto è più facile o difficile sfruttare un processo BIM a pieno dipende molto anche dalla polverizzazione degli incarichi dal numero dei consulenti e del fatto che noi commissione di ingegneria ci dobbiamo confrontare tutte le volte con delle organizzazioni diverse quindi se una società grande strutturata che può che richiude al suo interno tutti i vari processi può non dico più facilmente ma ha meno interferenze esterne nell'organizzazione del proprio lavoro in ambito BIM nel nostro caso ovviamente siamo ogni volta ogni progetto abbiamo stakeholder diversi consulenti o subconsulenti o colleghi del project team diversi chi è più che utilizza un sistema chi ne utilizza un altro committenti ovviamente sempre diversi e quindi ogni volta è un adattamento e quindi è lì anche la difficoltà di standardizzare i nostri lavoro il nostro processo BIM all'interno della società nonostante questo abbiamo fatto direi un grosso lavoro per cercare di migliorare sia la la riorganizzazione del flusso delle informazioni all'interno della nostra società che anche adesso ci siamo basati su delle piattaforme di scambio che utilizziamo anche internamente proprio per evitare come diceva prima Carlo Zanchetta a livello molto più grande di Padova ma digitalizzare anche le informazioni in un gruppo anche piccolino come la nostra società però è molto importante perché è il nostro valore in questo caso siamo partiti da un capitolato informativo che è chiamato project brief redatto dal cliente e che dava un po' di indicazioni anche se erano tuttavia molto scarne devo dire anche perché anche qui il cliente privato con sede a Hong Kong ha detto si fate pure il BIM va bene all'inizio però sappiate che poi noi il tender lo facciamo a tradizionale vogliamo i disegni in 2D le specifiche tecniche stampate ed eventualmente il modello lo daremo al contratto per informazione se solo se lo vogliono questo per dirvi quando anche una committenza piuttosto importante perché hanno decine di alberghi in giro per il mondo poi alla fine anche loro il BIM non lo hanno ben assimilato e questo non è solo un caso isolato ma è un tema abbastanza ricorrente nelle stazioni appaltanti sia pubbliche che private dove quelle private a volte anche loro per delle rigidità interne o forse perché anche all'estero forse sono anche meno non è poi così diffuso come dicono non hanno una manutenzione basata sul modello BIM oppure sono ancora agli inizi per cui ti dico si fatti pure il tuo modello però sappi che dopo io voglio le leocopie me le spedisci cartacee a Hong Kong io mi faccio l'appalto con la carta il blueprint poi in realtà poi evolvendo insomma hanno capito la potenzialità però effettivamente ci abbiamo messo del nostro anche per per fargli capire che effettivamente gli mettiamo in mano una macchina che poi non possiamo non possono non sfruttarla ovviamente durante la costruzione saremo ancora coinvolti ma poi anche nella fase di gestione di questo edificio fino alla fine della sua vita utile noi partendo da quello abbiamo fatto il nostro BEP in cui abbiamo cominciato a inserire tutte le informazioni possibili con anche i nostri colleghi gli architetto qui l'architetto TUN che è di Milano che era con noi in questo in questo progetto cominciare a darci gli obiettivi e gli usi dei singoli modelli fino a strutturare i vari la suddivisione anche geometrica tra dei vari modelli siamo arrivati a un certo numero di modelli per le strutture 10 modelli per l'architettura e addirittura 20 per la parte impiantistica che poi finiscono in un modello federato in questo caso noi siamo anche BIM cioè siamo BIM management dell'intera commessa quindi abbiamo un po' seguito tutto il processo partendo anche da un capitolato di Scantu BIM perché c'erano dei manufatti esistenti che abbiamo redatto noi una società poi ha fatto le sue rilievi abbiamo dato le tolleranze che cosa volevamo il livello di accuratezza che volevamo per ogni singolo edificio l'ho voluto mettere perché ci troviamo e poi lo riassumerò poi alla fine ci troviamo molto più sempre più spesso a lavorare sul patrimonio edilizio esistente e se non si ha una conoscenza approfondita dell'esistente non viene data attenzione poi i problemi vengono a galla più tardi durante il cantiere e quindi è diciamo è anche quasi inutile sviluppare un modello poi magari di dettaglio con dei livelli di accuratezza molto elevati se poi alla base non abbiamo delle informazioni dettagliate dell'esistente e questo non è banale non è più non è più un problema di accuratezza dell'informazione geometrica perché quello poi adesso gli strumenti insomma si sono evoluti così mi dicono a me e i miei colleghi insomma una volta c'erano i problemi sui fuori piombo adesso insomma queste cose sono anche più superate però è un problema informativo è un problema che bisogna andare e bisogna mettere dentro che il materiale è bisogna cioè è un insieme di indagini visive e strumentali per darci l'informazione su cui stiamo partendo qui vediamo c'erano pochi edifici e quindi insomma non è che alcuni anche dei rudiri per cui non è che ci fosse molto ma immaginiamo in un edificio magari addirittura aperto all'utilizzo andare a trovare le informazioni quali informazioni è ovvio dipende cioè che tipo di informazioni necessito a volte ne necessito tante a volte ne necessito poche se so che faccio che devo rifare tutto quindi magari devo tenere solo le strutture ma gli impianti li rifaccio se comincio a dover lavorare su fasi di implementazione di un progetto per cui devo conoscere esattamente l'impianto perché a un certo momento lo devo sezionare attaccarmi su quello nuovo devo avere una sbilta veramente costruito bene e questo è generalmente sottovalutato dalle stazioni appaltanti che siano pubbliche o private e in realtà è un progetto nel progetto che meriterebbe sia di riservargli di risorse economiche adeguate e i tempi adeguati qui siamo partiti comunque da un lavoro piuttosto ben fatto come dicevo utilizziamo Trimble il primo usavamo BIM 360 mi pare poi abbiamo cambiato anche perché dobbiamo cercare di come dire abbiamo ci sono questi problemi di costi che non sono trascurabili secondo me di licenze e quant'altro poi tutti parlano però alla fine poi i conti arrivano da pagare e io vedo nei bilanci l'impatto delle spese di hardware e software e non sono assolutamente trascurabili per cui anche noi cerchiamo a volte di trovare delle piattaforme o dei sistemi che siano anche meno costosi insomma perché è inutile andare a cercare sempre quelli più anche perché non te le pagano non è che nella parcella poi quindi nel pubblico nel privato riesce spesso a compensare questo sforzo per il coordinamento e clash detection in questo caso abbiamo utilizzato Solibri e quindi poi ci sono i report che mettiamo periodicamente sulle clash e anche per il model checking e quindi qui l'importanza dell'impostazione iniziale della VBS perché ovviamente poi qui arriviamo poi al quantity take off diviso strutturato secondo una VBS concordata con il cliente dove in alcuni casi abbiamo messo anche la fase di appalto se già si sapeva che si voleva appaltare in un modo o dell'altro prima un edificio dopo l'altro prima una disciplina dopo l'altra o degli early works perché c'erano delle lavorazioni che volevano far partire in anticipo e quindi già inserirlo all'interno del modello quel parametro in modo che poi i colleghi che si occupano di computazione potessero riuscire in modo un pochino più agevole ad estrarsi le quantità e ad averle già incanalate nel posto giusto quindi questo dobbiamo farlo ovviamente su tutti i modelli sui modelli interni nostri ma anche sui modelli esterni quando abbiamo questo ruolo di coordinamento e qui eravamo abbastanza dal lato fortunati anche se anche qui siamo andati avanti parallelamente con dei DVD che ti arrivavano e dovevamo sempre fare un po' il doppio lavoro e siamo arrivati con noi utilizziamo un altro software che si interfaccia con IFC per l'estrazione dei capitoli dei computi e qui alcune immagini del modello modello impiantistico modelli vari modello architettonico e questo era il progetto di Murano che arriverà tra un po' dovremo riuscire a cominciare a costruirlo altre esperienze questo è qualcosa di più semplice che l'abbiamo curato interamente noi per l'aeroporto di Bologna un parcheggio multipiano che è stato completamente realizzato in BIM l'abbiamo utilizzato anche per il 4D quindi con tutti i tempi la gestione dei tempi ovviamente è una struttura molto più semplice e questo devo dire che agevola qui è un video che ovviamente sapete che si può poi viaggiare all'interno dell'edificio a volte è anche utile anche per noi per in fase di concept di schematiche per dare la possibilità al cliente di visualizzarlo è una visualizzazione 3D che però male non fa per per mostrare l'immobile un po' come si si presenta questo per carità l'immobile è molto semplice ma ormai lo strumento in realtà virtuale lo utilizziamo spesso anche con i visori sono tutti un po' questi giochini un po' da videogame che però devo dire che per la committenza che magari non è così abituata a leggere un disegno figurarsi un modello poterlo così visionare un po' viaggiare è importante questo è il padiglione Italia che abbiamo anche qui sviluppato un modello BIM che ci è tornato particolarmente utile soprattutto per la velocità con cui abbiamo poi dovuto costruirlo nonostante un anno di stop dovuto al covid ma le complicazioni geometriche di questa struttura erano tali che e le maestranze poi locali non erano poi così schillate per cui abbiamo supportato noi la strappolazione degli elaborati degli shop drovi di tutte le carpenterie metalliche partendo da un modello ben coordinato e insomma alla fine siamo riusciti a farcela vado un pochino vado un pochino veloce facendovi vedere altri progetti qui in studio vengono fatti parecchi e ormai sono tutti in BIM penso che ce ne siano veramente pochi che non lo adottino a meno quelli a meno che non ce ne siano proprio un po' più piccoli e dipende sempre ecco da se siamo se i nostri compagni di viaggio sono anche loro inseriti nel mondo nel mondo BIM altrimenti si fa molto fatica perché o si va avanti tutti insieme perché BIM significa collaborare quindi o si collabora tutti insieme ma se abbiamo un soggetto un architetto un impiantista o qualcun altro che non lo è è ovvio che la macchina si inceppa questo è un appunto che adesso è in fase di progettazione esecutiva anzi deve essere già finito in Vietnam dell'architetto dell'architetto Casamonti di Archea e anche su questo abbiamo utilizzato processo BIM per lavorare con loro qui è l'aeroporto di Milano Malpensa noi abbiamo un contratto quadro con la SEA che è la società che gestisce gli aeroporti dove c'è un grande lavoro di digitalizzazione dell'esistente devo dire che non sono organizzati tanto bene come forse l'università di Padova ma insomma lo sforzo per la parte nuova ovviamente progetti nuovi li sono fatti in BIM però gli altri sono un pochino indietro e devo dire che questo lavoro di nuovo della digitalizzazione del patrimonio edilizio esistente è veramente abbastanza critica abbiamo anche vinto una serie di gare per il De Magno dove una fase è proprio la restituzione di modelli BIM dell'esistente ma immaginate edifici enormi in giro per l'Italia ma con capitolati informativi forse scritti ma poi quello che manca è e dopo cosa te ne fai di tutta questa cosa ecco gli manca l'utilizzo cioè la committenza dovrebbe settare delle richieste ma non solo perché così va di moda o perché fa più figo ma perché dopo veramente implementa tutta una procedura che può dare valore alla gestione di quell'asset a volte notiamo che soprattutto qualche anno fa stazione appaltanti quelli privati te lo dicono guarda io non lo utilizzo oppure si lo utilizzo ma quelle pubbliche a volte c'erano quasi così delle richieste c'erano concorrenti che offrivano io ti offro un LOD 400 al prezzo del LOD 300 c'erano cose così ma non sapevano neanche bene cosa voleva dire e poi tra l'altro diventava un po' sterile la questione perché non tutte le stazioni appaltanti adesso magari gli ultimi anni si stanno un po' ecco c'è un grande accelerazione però poi la cosa finiva nel cassetto e quindi veniva a mancare veramente lo scopo finale che era quello della gestione dell'edificio di gestire questo immobile controllarlo gestire la manutenzione decidere gli utilizzi la sicurezza e rimaneva sempre qualcosa che poi una volta gli consegnavamo gli as built nei faldoni li mettevano sullo scaffale adesso gli consegna la pennetta o glielo metti nel drive ma la rimane e questo è un po' un peccato io lo vedo che ci sono ancora pochi esempi non sono così diffusi degli esempi in cui effettivamente anche nel mondo durante la fase di costruzione e soprattutto durante la fase di gestione si faccia un utilizzo pieno di questa straordinaria potenzialità offerta da questo modello digitale dell'edificio qui ai lavori che abbiamo fatto sempre per sé e concludo ecco con alcune criticità e sfide che io che noi vediamo insomma sono messe lì proprio così anche un po' come non per polemica ma per cercare di sempre di non guardare sempre ripetere sempre le stesse cose di quanto bello è quanto importante è che lo sappiamo tutti noi come avete visto abbiamo investito e siamo dentro totalmente ci crediamo in questo processo però notiamo ancora delle difficoltà difficoltà che sono tra interrapporabilità diciamo verticale tra i software in ambito BIM o come dire ci sono poche offerte commerciali viviamo in dinamiche di monopolio e sappiamo quali sono i fornitori di software principali e questo ti porta a delle costi elevato di software perché non c'è una grossa una se cominciano tutti quanti a scegliere un determinato prodotto e si fa fatica ad avere una perfetta interoperabilità tra un prodotto targato una casa piuttosto che un'altra perché comunque ti dicono si è interoperabile però alla fine non è che sia proprio così facilmente interoperabile allora tutti vanno verso a scegliere quello stesso prodotto e chi vende questo stesso prodotto ovviamente poi alza i prezzi e lo vediamo tutti i miei tutti gli anni insomma che poi non ho mai capito bene perché devono sempre rilasciare delle registi degli anni nuove 2021 2022 2023 mica cambierà il mondo nel software quindi c'è questa logica commerciale che un pochino però ecco è un po' a volte è un po' pesante da gestire a livello bilancistico poi c'è il livello di preparazione della committenza cioè nel senso ci sono committenze molto preparate che sanno redigere un capitolato informativo sanno quello che vogliono sia in ambito pubblico che privato a volte il pubblico è più avanti il privato è più indietro come ho fatto l'esempio prima però ecco dovrebbero avere dovrebbero piano piano anche loro che è un lavoro enorme mi rendo conto ma questo obiettivo del BIM non deve essere solamente qualcosa che finisce così nell'ambito della gara di progettazione o di costruzione voglio il BIM perché so che adesso insomma così magari vado da cioè lo devi sfruttare perché è talmente potente che poi devi gestirlo per la manutenzione per la gestione lo devi avere delle figure che riescono a utilizzarlo e non farlo cadere abbiamo dei problemi di interovaluità anche nei workflow interni quelli che noi chiamiamo workflow orizzontali perché ovviamente tra un modello architettonico un modello Revit diciamo basato su Revit invece i software che utilizziamo per il calcolo strutturale o per l'efficienza energetica necessitano dei livelli di dettaglio diversi e automaticamente c'è un certo scambio ma questo scambio non è poi sempre così efficiente e quindi ci sono delle semplificazioni che necessariamente devono essere fatti per tali software che invece non valgono più quando invece devi fare questo famoso gemello digitale poi sono le competenze diciamo del BIM Specialist ma vale anche per il BIM Coordinator un po' per tutti quanti e quindi c'è sempre questa discrasia tra progettista e modellatore e ovviamente è in duplice senso cioè il modellatore deve imparare cosa sta modellando perché possono essere se siete bravi noi abbiamo assunto trovato persone bravi modellatori ma poi se non sa la differenza se stai modellando una trava o un pilastro è ovvio che c'è il problema della competenza di questi modellatori e in teoria dovremmo convergere verso un'unica figura quindi anche i nostri progettisti diventano modellatori i nostri modellatori diventano progettisti questo ovviamente è una formazione continua porta dietro anche un investimento in termini di risorse abbastanza considerevole e ci sono state c'è sempre richiesta anche noi cerchiamo sempre persone perché comunque abbiamo da un lato la fortuna ma anche dall'altro il problema di fare questi progetti e di trovare le persone che siano e quindi molti dicono ah c'è un bravo being specialist che però ha anche una formazione da progettista e quindi sa cosa sta modellando ovviamente quello è trovarlo già pronto sul mercato è una cosa è una cosa importante poi invece maturano qui dentro ripeto le competenze BIM dell'intera filiera progettuale se voi potremmo avere anche dei bravissimi consulenti può essere un lighting designer un acustico anche consulente perché ormai è talmente complicata la nostra professione che non possiamo sapere tutto ci sono degli specialisti se questi specialisti però ti dicono ah ma io ho il modello non so e la piattaforma non lo so utilizzare io ti mando il disegno via fax ovviamente ti crea un problema e se pensiamo che questo abbiamo anche progetti con 30-35 diversi consulenti all'interno dovrebbero tutti quanti quantomeno masticare un pochino per consentire al processo di non rallentarsi ripeto ancora le ultime due che sono quello che vedo poca implementazione BIM soprattutto nella gestione dell'edificio e sul livello di conoscenza dell'esistente è un problema secondo me sottovalutato anche dalle stazioni appaltanti o da pronto degli owner lo dicono sì te lo mettono dentro nella progettazione preliminare vai a farti anche le verifiche però ecco è un po' cioè in realtà su edifici complicati è veramente un progetto nel progetto che merita tempo e risorse adeguate anche economiche chiudo perché forse ho un po' sforato e vi ringrazio per l'attenzione grazie mille ingegner Zaggia passiamo adesso invece a il punto di vista dell'impresa di costruzione quindi temporalmente lo step successivo alla alla progettazione quindi do la parola a Caron S.P.A più precisamente a Paolo Carrossa Paola Caron e Tommaso Gasparin Buongiorno a tutti sono Paola Caronna allora aspetto che entrino la presentazione anche se in realtà ok vediamo lo schermo con tutte le icone no quello un attimo se volete vi siete silenziati ok allora intanto parlo lo stesso grazie faccio un po' una presentazione di chi siamo e nel contesto al quale lavoriamo siamo un'impresa di costruzioni generali abbiamo diciamo un'impresa che ha fatturato nell'ultimo bilancio 2020 250 milioni di euro abbiamo circa 260 dipendenti diciamo che l'azienda opera abbiamo una sede diciamo qui in provincia di Treviso e Caron Bau che opera invece nel territorio dell'Alto Adige l'impresa fa lavori privati pubblici e anche in conto proprio e lavori infrastrutturali quindi diciamo che è un'impresa generale di costruzioni i nostri clienti sono enti pubblici sono committenti privati che operano sono più che altro clienti istituzionali quindi banche compagnia assicurazione fondi eccetera ed è proprio partendo da loro che siamo ci siamo avvicinati a questo percorso di trasformazione digitale ecco dove all'interno abbiamo iniziato ad affrontare l'approccio al BIM perché abbiamo iniziato a fare diciamo le prime gare d'appalto con enti che ci chiedevano questa preparazione e quindi da lì diciamo ci siamo avvicinati ma quando parlo di digitalizzazione è in un senso più ampio per noi nel senso che digitalizzare significa anche migliorare la gestione delle informazioni con cui vengono sviluppati tutti i nostri progetti il secondo ma non meno importante abbiamo capito che digitalizzare significava innovare i processi della nostra azienda rendendola quindi capace anche di affrontare un mercato del futuro ed è proprio quando parlo di processi aziendali mi riferisco proprio nello specifico al BIM però per questa trasformazione l'azienda diciamo negli anni ha fatto degli investimenti importanti sia come software e hardware ma soprattutto il cambiamento e l'investimento è tutto importante quello delle risorse umane quindi diciamo investire nelle nostre persone e qui c'è stato diciamo il primo problema perché è un soprattutto una questione culturale perché cambiare quando le cose che faccio vanno bene così non era facile intervenire con persone che già lavoravano all'interno dell'azienda quindi sicuramente abbiamo inserito nuove figure quindi dopo parlerà proprio il nostro BIM manager Tommaso Gasparini e quindi da lì anche un investimento proprio nelle persone dell'azienda contestualmente ai modelli operativi introdotti in azienda come il BIM abbiamo però capito che non era sufficiente questo utilizzo avevamo bisogno di un software che mettesse a fattore comune le informazioni tipicamente estraibili dal BIM con quelle tecniche amministrative quindi direttamente collegate al singolo cantiere una volta ogni cantiere operava a sé con dei propri modelli oggi invece in azienda tutte le informazioni vengono diciamo collegate trasversalmente partendo dall'ufficio acquista all'ufficio tecnico al cantiere quindi c'è una diciamo i dati viaggiano e sono contestualmente visibili da ogni diciamo sezione dell'azienda i vantaggi di questa conversione digitale sono concreti in realtà ci porta l'azienda ad avere un monitoraggio costante dei costi ci permette di intervenire qualora sia necessario in modo veloce ovviamente anche come elemento sostenibile anche una diciamo minore utilizzo della carta ma soprattutto possiamo contare sulla statistica del dato ecco quindi diciamo che io ho fatto un po' un cappello su quelle che sono state le motivazioni come imprenditore che ci ha portato ad avviare questo processo di trasformazione digitale dove all'interno sicuramente il BIM è intervenuto come uno degli elementi più importanti di trasformazione diciamo che concludendo poi i miei colleghi entreranno un po' più nel vivo di pratiche sicuramente è importante il ruolo che la nostra azienda ha fatto come cultura sull'argomento perché sappiamo che la filiera delle costruzioni è molto lunga e quindi intervenire noi significa poi portare a traino fornitori e subappartatori e far crescere di conseguenza anche loro quindi fare cultura sull'argomento nel nostro settore però non è tutto l'osa e non è tutto oro le difficoltà ci sono non è facile come ha detto l'ingegnerizzaggio prima dipende dal committente anche quanto investe e dipende anche dai professionisti da quanto preparati sono sull'argomento e sicuramente dipenderà anche dalle imprese da quanto preparate sono ad affrontare progetti da questo punto di vista soprattutto quando parliamo di BIM legato a situazioni di recupero di restauro non è non è una passeggiata ecco quindi però ecco ci crediamo pensiamo che questo sia il futuro e quindi l'investimento è vero da parte dell'azienda quindi non è solo una facciata una certificazione ma è un lavoro costante che stiamo facendo col personale interno e anche nel proprio come percorso di transizione digitale grazie buongiorno a tutti mi chiamo Paolo Carrozza mi occupo da otto anni ormai di risorse umane in Caron dunque in serie di preparazione di questo incontro diciamo nelle regole di ingaggio c'è stato chiesto di testimoniare in modo sintetico e non tecnico ecco cioè non esclusivamente per addetti ai lavori come abbiamo affrontato genericamente parlando la transizione generale e possibilmente anche senza esibizione di successi e palesando eventuali difficoltà criticità all'interno di questo di questo capitolo io dicevo mi occupo di risorse umane quindi il mio intervento oggi è sicuramente diciamo così organizzativo narrare di come un'impresa di costruzioni che è un player diverso rispetto a quelli che sono precedentemente intervenuti ha affrontato questa tematica che per noi riguarda non soltanto si focalizza non soltanto sul BIM ma anche sugli aspetti gestionali come diceva giustamente Paola Carron prima di me in questa fase di in questa fase di transizione allora innanzitutto per noi questo passaggio transizione digitale significa riformare i processi e cambiare abitudini cambiare abitudini vuol dire a partire da un bacino di risorse umane stabile che noi abbiamo cercare di individuare quali all'interno di questa struttura sono le competenze esistenti spendibili nelle nuove modalità di esercizio e di conduzione dei cantieri con le nuove tecnologie e acquisirne dall'esterno di importanti di necessari quando 5 4 5 anni fa ci siamo trovati ad affrontare le prime le prime gare le prime le prime valutazioni di commesse con logiche BIM e diciamo così non tradizionali abbiamo necessariamente dovuto attrezzarsi e da un punto di vista analitico e da un punto di vista gestionale per capire costi opportunità convenienze e incommense ma poi anche riuscire a processarle queste stesse opportunità a partire da delle competenze che avevamo in azienda e andare a ricercare sul mercato quelle che effettivamente non erano operative questi due elementi fondamentali hanno riguardato sostanzialmente la costituzione di un dipartimento BIM che fino a 4-5 anni fa non era presente in azienda e formare che in tali occasioni ha voluto dire alfabetizzare le persone che sono che erano presenti in azienda in quel in quel momento ecco solo per dare uno sguardo ed integrare quanto già anche detto dalla collega Paola Caron questa è una semplicissima slide si capisce quanto Caron Spa consti attualmente più o meno attorno alle 200 persone e quanto di questo di questo bacino di dipendenti sia rappresentato dalla sezione impiegati tecnici cioè coloro che naturalmente sembrerebbero essere più naturalmente destinati ad un'attività di formazione specifica da questa da queste nuove tecnologie da queste nuove competenze il grafico sotto vuole evidenziare un dato che per noi è estremamente significativo la maggiore concentrazione di dipendenti nella nostra impresa è in una fascia di età che qui abbiamo semplificato tra i 40 e i 49 anni cioè teoricamente è nel massimo della forza fisica mentale diciamo così e dell'esperienza nello specifico che ha ma ha un'anzianità aziendale medio medio molto medio alta quindi cosa vuol dire che quando abbiamo siamo partiti con questa transizione con questo cambiamento di impostazione ci siamo trovati a che fare con delle persone che andavano formate e che avevano già delle solide competenze se non eccellenti competenze di realizzazione e tecnica che dovevano essere riformate questo vale un po' meno per Carron Bau perché è un'impresa più giovane pur essendo destinataria di questo tipo di attività formativa in modo massiccio in modo molto importante in buona sostanza abbiamo avviato un'attività molto spinta e che ha riguardato più o meno 130 persone tra entrambe le società trasversalmente focalizzandosi maggiormente nella parte tecnica cioè in coloro che conducono che eseguono che realizzano poi effettivamente tutte tutte le nostre commesse ma riguardando anche trasversalmente altre tipologie di attività come la parte amministrativa la parte dell'ufficio acquisti la parte delle gare che in qualche modo cooperano a sono diciamo cooperano in qualche modo per la conduzione gestionale non tecnica di questo di questo tipo di di nuova competenza costituendo l'ufficio l'ufficio BIM il dipartimento BIM abbiamo in qualche modo individuato una persona e possiamo dire che abbiamo ad oggi circa sei giovani ingegneri architetti tra BIM manager BIM coordinator e BIM specialist che hanno un'età media di 30 anni alta competenza alta specializzazione alta formazione giovanissimi in termini di età ma diciamo così operare in questo contesto in una società di costruzioni come la nostra probabilmente non è la stessa cosa che in una società di ingegneria o in un altro contesto diciamo così più da studio più classico ci siamo meravigliati andando a ricercare sul mercato questo tipo di competenze per noi necessarie a processare i progetti e le realizzazioni in situ ci siamo meravigliati perché abbiamo trovato le classiche fonti e i classici bacini di reclutamento come Milano come la Lombardia in generale normalmente molto floridi ma ci siamo meravigliati di trovare anche in aree inaspettate come il centro e il sud Italia penso Politecnico di Bari o l'Università della Calabria di Napoli o Tor Vergata e Frosinone degli enti formativi che hanno in qualche modo partorito dei ragazzi i quali non soltanto tanto volevano lavorare nel campo in cui si erano formati e su cui avevano studiato e su cui avevano lavorato molto ma avevano il desiderio di vedere la realizzazione della loro attività diciamo così di sviluppo e progettuale nel nostro caso la competenza non basta i BIM Specialist e i BIM Coordinator sono avviati ad un'attività istruttoria e di sviluppo iniziale sulla commessa ma legata anche direttamente al cantiere scherzosamente e un po' sinteticamente noi usiamo dire desiderano vedere i mattoni i nostri BIM Specialist cioè desiderano essere operativi direttamente in cantiere e operare non soltanto la realizzazione e lo sviluppo dei modelli ma in qualche modo essere seduti a fianco ai nostri ingegneri architetti ai nostri geometri di navigata esperienza per la in qualche modo esecuzione di questa attività credo che possiamo anche dire una cosa importante e che come General Contractor e che ci rendiamo conto che le persone che vogliono lavorare in questo contesto con questa disponibilità con questa flessibilità con questa anche disponibilità alla mobilità territoriale oltre che oltre che diciamo così funzionale operativa e di attività queste persone cercano anche una stabilizzazione che noi possiamo dare diciamo in questo contesto domina molto la partita IVA ecco trovano in noi anche la possibilità non soltanto di avere questo tipo di esperienza ma di avere una stabilizzazione contrattuale che forse spesso in determinati altri contesti fanno molta fatica a trovare e come ultimo aspetto significativo per noi cercano anche di far parte di una squadra di far parte di una famiglia e di far parte di un'impresa che in qualche modo è loro vicina e li segue sia nella loro crescita che nei loro successi all'interno del del cantiere ecco per gli aspetti più tecnici lascerei la mia parola a Tommaso Gasparino buonasera a tutti vedrò di essere abbastanza sintetico visto che molte cose sono state anche dette effettivamente fin qua andando un attimo definito quelle che sono le strategie gli obiettivi aziendali sono state gli obiettivi aziendali e definito anche quello che è la parte diciamo di competenze umane vorrei un attimo riprendere quelli che sono gli ambiti che portano all'implementazione del BIM diciamo così possiamo chiamare in realtà come un'impresa di costruzioni si parte sicuramente alle persone questo è già stato detto c'è un tema di scrittura di definizione di processi e soprattutto di schematizzazione di processi perché questi processi vanno trasferiti e vanno inseriti all'interno di strumenti appunto informativi che però devono essere basati su regole ben precise c'è un tema di linguaggio dove per il linguaggio si intende quella codifica che è già stata citata da Carlo Zanchetta in ambito diciamo globale anche all'interno dell'azienda serve una classificazione al linguaggio che serva al tecnico di cantiere come ai fini di bilancio per capirci e quindi che in qualche modo mi permetta di partire da quello che è un progetto e arrivare a una costruzione a un handover ma anche a questioni di gestione aziendale appunto e il tema di linguaggio è fondamentale nella costruzione della transizione digitale e dell'implementazione del BIM ma soprattutto è fondamentale per poi introdurre degli strumenti che sono funzionano con linguaggi standardizzati gli strumenti sono l'ambito diciamo più semplice tra virgolette e più spinoso perché implementare diciamo questa transizione digitale parla molto di integrazione di sistemi e di software di interoperabilità di software quindi quello diciamo quando si parla di software non è tanto la disponibilità delle funzioni in sé ma è la possibilità che questi software dialogano tra loro attraverso le varie funzioni e che ci è garantita l'interoperabilità ok il percorso ci ha portato che abbiamo fatto comunque per l'esigenza delle committenze per quello che abbiamo deciso di sviluppare internamente ci ha portato già ad avere alcune esperienze qui ci sono alcuni numeri che di per sé sono relativi diciamo posso dire che abbiamo già concluso sette commesse BIM consegnato di modelli collaudati consegnato di modelli collaudati rilacciandomi anche a quello che dicevano prima che diceva prima l'ingegnere Zalda su requisiti e la committenza su utilizzo in fase di facility management sette modelli collaudati sette modelli messi su una chiavetta o su un CDE abbandonati là perché lato committente non sappiamo bene cosa farcene abbiamo una struttura aziendale abbiamo delle figure certificate abbiamo una filiera che coinvolge oltre 30 società la parte di coordinamento e sviluppo di modelli costitutivi andando alle opportunità e alle criticità dove per opportunità riprendendo sempre cosa è stato detto prima sono situazioni che ci hanno portato a produrre valore all'interno dell'azienda e per criticità per noi sono mancate produzione di valore data da quello strumento la produzione di valore noi in primo luogo l'abbiamo avuta nella gestione del dato il modello informativo è stato uno strumento che ci ha permesso di gestire un'infrastruttura che ci permesso di gestire e strutturare dati che poi servono all'attività sostanzialmente di pianificazione programmazione temporale gestione economica di commessa bisogna dire che tre anni fa avevamo un sistema molto meno elaborato di classificazione di tutta quella che è la parte di gestione così come della programmazione e la transizione a un sistema più evoluto quindi banalmente ancora un programma valorizzato che ci permetta di monitorare in modo puntuale quello che è l'evoluzione della produzione in cantiere è stato possibile solo grazie a dei modelli che ci danno dei dati strutturati e che ci permettono di gestirli in modo anche visuale in modo da dire in certi casi perché di per sé il dato non contestualizzato è di difficile comprensione anche da parte del tecnico di cantiere sicuramente abbiamo avuto vantaggi da tutte quelle che è l'attività di coordinamento qui non mi soffermo neppure perché è uno dei vantaggi più scontati diciamo per quanto riguarda il BIM e vado direttamente a quelle che sono le criticità che peraltro trovano riscontro in quello che è stato detto prima nel senso che il BIM purtroppo è ancora visto molto come prodotto per quanto ci riguarda e poco come processo è un problema sostanzialmente di filiera non ci troviamo tra dei committenti che magari hanno incaricato un progettista e che ha sviluppato una progettazione in BIM anche ben fatta un suo avvaltatore che magari il BIM non sa neppure che cosa sia dobbiamo fare da centratore anche di diciamo della gestione informativa di tutti i dati che girano attorno alla commessa molto spesso senza avere dei riferiti specifici ora facendo una breve statistica di quelle che sono le gare da pagina che abbiamo fatto negli ultimi tre anni siamo attorno al 10 arriviamo a un 15% nel 2021 16% nel 2021 di gare da pagina in cui ci sia un capitolato informativo o un documento simile che quindi ci dica cosa il committente vuole dalla nostra esecuzione BIM in termini di produzione del modello Sbuild che è quello che più dovrebbe interessare al committente ad oggi esperienze purtroppo non le abbiamo avute di continuità diciamo nell'uso dei modelli nella parte di asset e facility management ma anche nella parte proprio di gestione di cantiere quindi diciamo che noi spesso ci facciamo promotori di processi che sono nostri interni riportandoli anche nell'attività che dovrebbero essere proprie di un construction management o di una direzione lavori proprio perché è una questione di filiera dobbiamo essere pronti noi deve esserci una controparte che è direzione lavori perché se io ti presento la contabilità con il modello e nessuno mi apre quel modello per verificare che la contabilità sia corretta non stiamo creando valore aggiunto da nessuna parte un po' meglio va nelle nostre iniziative immobiliari infatti diciamo che qui ci stiamo muovendo e appunto l'azienda ci crede molto la proprietà ci crede molto quindi stiamo mano a mano spingendo per avere sempre più utilizzo del BIM nelle nostre iniziative quindi questo diciamo filiera committente subappaltatore anche sul lato subappaltatori c'è una complessità da gestire che ci porta ad avere in alcune commesse 18 mi viene in mente nella commessa di Bulgaria e Roma abbiamo 18 subappaltatori che producono modelli quindi ti immagino lo sforzo di coordinamento in quest'ambito e la difficoltà anche a livello dal punto di vista proprio contrattuale di ingaggi di questi subappaltatori di far sì che i requisiti del committente e i nostri requisiti vengono correttamente recettiti quindi c'è un tema di information requirement molto importante e anche su questo stiamo lavorando come standard di stabilizzazione e anche dal punto di vista contrattuale chiudo andando su una cosa che è già stata citata da più parti che è quel gap tra virtuale e reale che appunto arrivando noi in fondo a tutto il processo essendo noi in cantiere ci troviamo davanti a quelle situazioni in cui il modello che dovrebbe rappresentare e dovrebbe in certi casi agevolare quella che è la base di costruzione è in realtà inadeguato e c'è un tema proprio di equilibrio tra competenze digitali quindi di chi modella diciamo semplificando e di esperienza sul campo che non sta nella semplice clash di capire che il pilastro interperisce con il canale ma sta anche se tutta una serie di competenze appunto che spesso si acquisiscono con l'esperienza che sono quelle di installazione piuttosto che vere e proprie capacità progettuali di visione questa immagine che ho ritrovato cercando tra le foto del cantiere mostra come il modello sarà sempre una semplificazione ed è giusto che sia così perché altrimenti spenderemo troppo banalmente per produrli però devo sapere che quel corrugato che io non modello occupa uno spazio che devo tener conto da un punto di vista di clear da un punto di vista di costruzione del modello perché altrimenti finiamo ad avere diciamo quello scarico condensato sotto del contrasorfitto e quindi quello su cui stiamo lavorando molto è sicuramente riuscire a portare un po' di competenze digitali da quei colleghi che sono in cantiere magari da 25-30 anni e viceversa acquisire a chi fa coordinamento o ai specialist che sono in cantiere a loro supporto quelle competenze anche operative necessarie poi a monitorare a costruire correttamente il gemello digitale del cantiere che per noi sarebbe prezioso basta sono andato anche abbastanza lungo grazie grazie mille mille all'intera carona spa anche qui l'importanza di un altro tassello dell'intera filiera e come hanno investito come vedete alcune cose sono molto simili a partire dal comitente dalla stazione appartante per passare poi dopo alla società di progettazione ed infine all'impresa ovviamente tutto funziona se tutti gli ingranaggi sono ben oleati fra questi diversi compartimenti per questo anche appunto viene stato organizzato questo seminario per far capire l'importanza di un impegno a 360 gradi adesso passiamo agli enti di certificazione enti di certificazione che riporteranno ovviamente gli enti di certificazione potrebbero ridire le stesse cose in realtà ognuno di loro porterà una piccola parte di questi di questi argomenti quindi inizierei con Maria Fernandez di di TUV che ci riporta buongiorno mi sentite? ciao ciao Maria ciao perfetto ti lascio la parola no ok era solo giusto per fare un check dell'audio quindi ok allora buongiorno a tutti adesso condivido lo schermo dovreste vedere sì vediamo un secondo solo no però vedete vediamo la modalità presentazione con la diapositiva a fianco sì ok se volete così altrimenti allora un secondo solo interrompo mi sa che devi invertire gli schermi che puoi proiettare sì un secondo solo era per non se no mi vedete di fianco ma va bene allora vediamo così giusto? ci siamo perfetto allora buongiorno a tutti sono Maria Fernandez farò una presentazione molto breve visto che siamo un po' in ritardo quindi non voglio trattenere i partecipanti più del dovuto e anche poi per dar passo all'intervento dei miei colleghi degli altri di certificazione e due parole giusto su chi sono io sono appartengo alla società Tuf Italia che appartiene al gruppo Tuf Sud che a livello internazionale è attivo da oltre 150 anni quindi non mi voglio dilungare molto nella presentazione poi ci sono alcuni dati relativi al nostro gruppo e i dati relativi a tutta Italia quindi siamo in Italia da oltre 30 anni copriamo tutto il territorio nazionale e ovviamente abbiamo una fitta rete di collaboratori esterni proprio perché le attività sono molto variegate e ovviamente abbiamo sempre necessità del supporto dei tecnici di settore per come lente di certificazione sostanzialmente sbongiamo attività per l'intero ciclo di vita del business quindi dagli audit più caratteristici dei sistemi quindi certificazioni di sistema abbiamo tutta un'area relativa all'ispezione in ambito industriale e anche real estate e materiale costruzione facciamo dei test di lavoratorio quindi test di prodotto attività di supporto tecnico attività di formazione e negli ultimi anni dal 2010 forniamo anche il servizio di certificazione del personale dal quale io faccio la sono responsabile quindi io sono in Tuff da oltre 20 anni ho fatto un po' di tutto adesso diciamo che dal 2010 ci seguo tutto lo sviluppo di questo nuovo filone che negli ultimi anni come mi farò vedere è cresciuto molto ecco io non parlerò della certificazione specifica BIM lascerò quello ai miei colleghi proprio perché come diceva Dinora evitare di ripetere tre volte le stesse cose ma quello che mi interessa è quello di farvi una sorta di presentazione su che cosa è la certificazione cioè tutti abbiamo parlato di competenze abbiamo parlato di certificazioni accreditamenti norme ecco come funziona questo mondo mondo che se uno non fa parte non è detto che ne capisca tutti i meccanismi quindi l'ambito delle certificazioni tra le quali ovviamente la certificazione BIM sia sistema che persone è diciamo possiamo dire suddiviso in tre mondi uno è il mondo della normazione che è formato da organismi che sostanzialmente elaborano le norme tecniche quindi norme tecniche sono degli lavorati degli strumenti di diffusione di conoscenza e esistono organismi a livello italiano quindi nazionale a livello europeo e a livello mondo nella slide avete tutte quelle sigle quindi sostanzialmente le sigle che sono sempre a sinistra dei numeri delle norme ci danno un'idea di dove la norma è stata pubblicata cioè a livello per esempio nell'ambito BIM abbiamo la UNI 11337 e quindi vuol dire che è una norma italiana quindi è stata predisposta è stata elaborata e pubblicata per il territorio italiano quindi si applica al territorio italiano oltre al mondo della normazione in Italia abbiamo l'Uni e il CEI e il CEI è l'organismo che si occupa di tutta la parte di elettrotecnica abbiamo il mondo dell'accreditamento per quanto riguarda l'accreditamento esiste un ente solo nazionale quindi per ogni nazione esiste un ente di accreditamento in Italia si chiama Crepia e sostanzialmente la loro funzione è quella di vigilare l'operato degli organismi di certificazione quindi sono delle attestazioni diciamo di parte terza che controllano diciamo l'operato dell'organismo di certificazione gli organismi di certificazione quello che fondamentalmente fanno è valutare la conformità quindi la conformità rispetto a un qualcosa e può essere a livello di sistema gestionale può essere la conformità di un prodotto la conformità di un servizio la conformità di un professionista e quindi il valore è quello di fare questa valutazione in ambito lavorata diciamo da un ente terzo e imparziale la conformità ovviamente va fatta in base a un qualcosa che può essere una norma tecnica o un disciplinare e il tutto è comunque regolamentato e riconosciuto a livello europeo internazionale quindi gli enti di normazione lavorano le norme ma queste norme sono elaborate in accordo a un regolamento condiviso e anche degli standard condiviso a livello internazionale gli enti di accreditamento vigilano ma il loro operato è regolamentato sia da delle norme tecniche come qua vedete la 17.011 con tante sigle quindi vuol dire che è una norma pubblicata a livello ISO quindi a livello internazionale recepita in Europa quindi vedete la sigla EN e recepita nel territorio italiano da NUNI e non CEI quindi sono degli standard riconosciuti a livello mondiale e quindi che regolano l'attività di questi enti l'attività degli enti di certificazione a sua volta è sempre regolamentata quindi come l'ente di certificazione emette la certificazione di sistema prodotto servizio persone o ispezione è regolamentato da una norma tecnica internazionale nell'ambito del BIM quindi si applicano due norme si chiamano norme di accreditamento perché sono quelle norme che si applicano agli enti e non ai clienti finali che sono le 17.024 per quanto riguarda la certificazione del personale e la 17.021 per quanto riguarda il sistema di gestione BIM il tutto ovviamente c'è anche una regolamentazione per quanto riguarda le autorità pubbliche quindi la vigilanza sul mercato quindi tutta l'architettura tutta l'architettura delle certificazioni è comunque un'architettura condivisa e che ha delle regolamentazioni a livello internazionale perché le norme tecniche sono importanti noi abbiamo detto che esistono questi enti ovviamente l'ente segue che lavora le norme nel nostro caso uni o cei predispongono dei tavoli quindi le norme non sono diciamo frutto dell'uni esclusivamente ma l'uni quello che fa è mettere le condizioni per creare dei tavoli di lavoro condivisi con tutte le parti interessate per valutare diciamo l'attività oggetto di normazione per quanto riguarda quindi nell'ambito del BIM c'è un tavolo pubblico dove chiunque può partecipare che ha elaborato le norme che esistono in Italia quindi le uni e le PDR la norma ovviamente a questo punto è un documento dove la figura viene analizzata da diversi punti di vista quindi è un documento che è condiviso dalle parti interessate quindi condiviso dal mercato inoltre l'elaborazione della norma essendo svolta attraverso una norma riconosciuta a livello internazionale esce un documento che anche se a livello italiano come può essere la norma BIN sull'uni è nata sul territorio italiano comunque un documento che è riconosciuto perché segue delle regole internazionali quindi l'uni mette le condizioni il processo le modalità in cui questa norma devono essere deve essere emessa ma a questa norma partecipano tutte le parti interessate del mercato e quindi è un qualcosa di più importante insomma quindi è condiviso da tutte le parti interessate come abbiamo detto in ambito BIM esistono per quanto riguarda i professionisti ovviamente esistono due norme una è una norma in sé che è la 11.337 dove definisce i requisiti di conoscenza abilità e competenza questa norma poi verrà diciamo approfondita dai miei colleghi nei successivi interventi e esiste anche la ONI PDR 78 2020 in realtà questa norma si applica più agli enti di certificazione perché l'obiettivo di questa prassi non è una norma in sé ma è una prassi di riferimento le prassi del riferimento sono delle norme tra virgolette leggere che fanno sì che possano essere messe in un tempo ridotto rispetto a una analisi a una norma tecnica principale e poi se viene applicata al passare di una serie di anni può diventare norma tecnica quindi sostanzialmente ha le stesse requisiti quindi le stesse valori della norma però il processo è un po' più velocizzato la PDR 78 2020 si applica agli enti perché chiarisce come deve essere svolta l'attività di valutazione quindi l'attività di valutazione dei professionisti BIM non è scelta da ogni ente ma è una valutazione condivisa e definita dalla PDR 78 2020 e questo fa sì che le persone che sono interessate a una certificazione comunque possano scegliere una serie di enti e avere comunque la sicurezza che il processo sia quantomeno omogeneo abbiamo anche detto che è importante l'accreditamento perché è importante l'accreditamento perché attraverso l'accreditamento il cliente finale può avere una garanzia maggiore che la certificazione che gli viene rilasciata e a sua volta controllata da un ente quindi l'operato dell'organismo è controllato ma questa certificazione ha anche una valenza a livello internazionale perché il nostro organismo di accreditamento Accredia ha comunque firmato degli accordi multilaterali per i quali gli accreditamenti italiani hanno comunque un riconoscimento a livello internazionale quindi una certificazione BIM rilasciata da un ente accreditato oltre che avere maggiori garanzie dell'operato dell'organismo di certificazione ha anche una validità riconosciuta a livello internazionale quindi è molto importante da questo punto di vista scegliere l'organismo di certificazione perché bisogna valutare che l'organismo di certificazione si sia accreditato per quanto riguarda la certificazione del personale ma anche quell'accreditamento sia steso alle figure BIM perché un ente può essere accreditato ma può non essere accreditato per le figure BIM può essere accreditato per altre figure come i clienti possono quindi i professionisti possono scegliere questo organismo per sapere se un organismo è accreditato per la certificazione che ci interessa questi può essere visitato il sito di Accredia quindi nel sito di Accredia nell'ambito della banca dati esiste la parte relativa agli organismi accreditati e riconosciuti e quindi cercando il nome dell'organismo il cliente finale il professionista può andare a verificare che questo organismo sia accreditato per i profili BIM oppure non lo sia insomma quindi questo è una sicuramente una garanzia anche perché gli organismi accreditati subiscono anche delle verifiche periodiche quindi sicuramente ha una valenza maggiore ecco quello è l'ambito del mondo delle certificazioni per quanto riguarda la certificazione del personale diciamo che non possiamo non parlare della legge 4 quindi la legge 4 del 2013 è una legge che è nata per dare una maggiore dare una qualificazione a tutte quelle professioni che non appartengono a Udalvo e questa legge ovviamente quello che fa è valorizzare le competenze verticali quindi non è più sufficiente avere una laurea ma con questa certificazione il professionista può garantire che ha una specifica esperienza competenza nell'ambito di un servizio verticale in questo caso nell'ambito del BIM la legge la legge 4 quindi ha definito questo sistema di qualificazione quindi la legge definisce che un professionista nell'ambito delle professioni si può qualificare in base a tre livelli un primo livello è che il professionista rilascia si autovaluta e quindi rilascia un'autodichiarazione e quindi è il livello diciamo zero poi c'è un livello uno possiamo dire che è il livello delle attestazioni di qualità queste attestazioni di qualità vengono rilasciate dalle associazioni di categoria che sono scritti in un albo specifico dal ministero dello sviluppo economico quindi solo quelle associazioni possono rilasciare questa attestazione di qualità e vengono rilasciate sulla base di una serie di requisiti e di criteri che l'associazione ha definito e che l'associazione verifica che i propri associati soddisfino diciamo questi requisiti e la garanzia del sistema diciamo di questo tipo di attestazione è quella che comunque queste attestazioni sono inserite in un elenco specifico e quindi c'è una verifica da parte del ministero il livello diciamo di qualificazione più alto è stato dato all'organismo agli organismi accreditati quindi alla certificazione di conformità certificazione che viene effettuata sulla base di una verifica di requisiti non definite diciamo dall'organismo ma da norme uni l'organismo rilascia questa certificazione in base a un processo una valutazione oggettiva quindi attraverso un esame attraverso una serie di attività e questa certificazione deve essere quindi per essere conforme alla legge 4 deve essere accreditata in modo da garantire il controllo dell'organismo e la valenza quindi il riconoscimento internazionale attraverso l'accreditamento quindi sicuramente è lo strumento migliore diciamo per attestare delle competenze in maniera oggettiva ecco e cosa ha prodotto la legge 4 ecco questa slide sono dei numeri di organismi di certificazione e ovviamente i dati riportati sono stratti da sempre al sito di Accredia perché lo stesso che ci sono gli organismi quindi che io posso verificare se un organismo accreditato posso anche verificare nello stesso sito da Accredia se un professionista è certificato o meno e attualmente ci sono 60 organismi di certificazione del personale quindi che rilasciano certificazioni in ambito professionale quindi nei professionisti ci sono 329 figure professionali che possono essere certificate e oltre 140.000 professionisti certificati nella parte destra della slide vedete i numeri in ambito BIM quindi in ambito BIM oggi ci sono 6 organismi di certificazione che hanno l'accreditamento quindi questi numeri parlano solo in ambito accreditato e si possono certificare 4 figure BIM e oggi sul registro sono presenti 1680 professionisti certificati già per quanto riguarda la UNI 11337 barra 7 perché è utile la certificazione sicuramente per valorizzare quelle competenze che anche negli interventi precedenti abbiamo sentito e ovviamente innalzare il livello di qualità del servizio che viene erogato ma la certificazione rispetto a un'attestazione o rispetto a un percorso formativo ha anche una valenza di continuità perché per poter mantenere la certificazione nel professionista deve dimostrare comunque che continua ad aggiornarsi quindi deve dimostrare un mantenimento di queste competenze per cui è un qualcosa che è sempre attivo ed è costantemente sotto valutazione ecco la certificazione abbiamo parlato di certificazione di competenza quindi il professionista deve avere la competenza e quindi la messa diciamo la messa in pratica delle conoscenze che ha non è pensabile rilasciare quindi una certificazione delle competenze a fronte di un corso esclusivamente quindi i corsi di formazione sicuramente servono per acquisire tutte quelle conoscenze ma non non si può pensare che se io mi voglio certificare BIM specialist mi faccio un corso di due giorni e poi mi posso certificare no devo mettere in pratica quello che ho acquisito quindi per potermi certificare non è un'abilitazione è un'attestazione della mia competenza e quindi io devo dimostrare che ho messo in pratica le mie conoscenze e so diciamo e svolgere le attività in maniera con di standard qualitativi minimi e quindi è anche la certificazione è uno strumento che tutela la nostra professionalità e ci aiuta ad accrescere il valore di questa professionalità e come abbiamo già detto è comunque uno strumento riconosciuto dal mercato in ambito BIM ti devo interrompere siamo andando molto grazie ho finito quindi questa la certificazione in ambito BIM quindi è lo strumento che ci può garantire quei requisiti che ci chiedono per garantire la competenza del personale sia per quanto riguarda i decreti che per quanto riguarda il codice dei contratti pubblici finito eccomi qua grazie ok allora cercheremo di essere insomma il più rapidi possibili stiamo andando un po' oltre insomma quello che è il tempo e allora adesso passo la parola a Rossella no scusate a Orsenigo Lorenzo Orsenigo presidente di ICMQ ICMQ è stato uno dei dei fautori anche delle PDR che prima citava Maria quindi prego Lorenzo grazie vi vedo di condividere lo schermo lo vedete sì perfetto allora adesso metto anche la modalità presentazione se ci riesco ok vi ringrazio ringrazio tutti per la partecipazione per la pazienza ringrazio gli organizzatori per l'invito io non ho messo una presentazione di ICMQ ma potete andare a vedere sul nostro sito ICMQ.it che cosa facciamo eccetera noi dico solo che siamo specializzati nel settore costruzioni quindi è stato un po' naturale anche che noi ci siamo occupati di BIM a partire dal 2015 credo che sia stato detto in maniera esplicita gli esempi che abbiamo sentito prima dai relatori precedenti fanno comprendere che il BIM non è un'evoluzione del CAD non è un'applicazione software ma il BIM è completamente un nuovo approccio che comprende sia la parte di progettazione di gestione manutenzione ristrutturazione demolizione e fondamentalmente ha due elementi secondo me caratterizzanti uno è la comunicazione lo diceva prima anche Ruperto quando parlava di condivisione per la verità e poi anche tutto il tema della pianificazione quindi il software che molte volte viene individuato come l'elemento BIM non è il fine ma è soltanto uno strumento il BIM come abbiamo visto anche dai racconti precedenti si occupa di tutto il ciclo di vita quindi i benefici si hanno soprattutto nelle fasi dopo la progettazione che sono la fase di costruzione l'operation in maintenance così come anche le eventuali fasi di demolizione o renovation quindi il BIM abbiamo detto è un processo e quindi che coinvolge tante parti interessate che devono dialogare e condividere quindi i committenti i progettisti imprese di costruzione i gestori di immobili e questi processi devono essere adeguatamente governati nel senso che come vedete qua io ho una maggiore diciamo necessità di tempo in progettazione ma risparmio sicuramente poi nelle fasi successive è chiaro che se non ho un processo ben gestito e arrivo a un certo punto e così detto andiamo in panico perché non riusciamo a continuare sulla strada seguita questo ha degli estracosti e delle difficoltà che ovviamente sono notevoli quindi quello che io raccomando e cerco di spiegare è che essendo un processo ci vuole un sistema di gestione di processo e questo è il motivo per cui noi siamo partiti nel 2015 poi insomma nel 2016 abbiamo costituito un gruppo di lavoro invitando i nostri soci e i building spa qua vedete le persone che cioè gli enti che hanno collaborato alla stesura di una specifica tecnica per un sistema di gestione per il BIM non era ancora disponibile all'interno delle norme della serie 11 337 che sono tutto il pacchetto di norme che governa che converna al BIM e quindi ci siamo messi a fare questo lavoro la specifica tecnica che avevamo redato vabbè a parte fare un'analisi di se c'è in giro qualcosa e non c'era sostanzialmente ci siamo affidati alla struttura dei norme dei sistemi ISO c'è una struttura codificata e quindi permette questo di la cosiddetta ISO ai leva straccia permette di interfacciare bene questa specifica tecnica con le norme ISO 9000 14000 cioè quelle che normalmente si trovano già all'interno all'interno delle aziende dopodiché nel 2019 abbiamo deciso dopo aver fatto esperienza sul campo certificato un po' di aziende che di condividere col mercato quindi questa questa specifica tecnica è diventata una prassi di riferimento la Uni PDR 74 è una liberamente scaricabile dal sito Uni quindi la potete la potete utilizzare ed è una norma liberamente utilizzabile oramai anche dagli altri organismi di certificazione quindi l'abbiamo resa pubblica e disponibile a tutti dicevo prima si integra si integra con l'ISO 9000 qua c'è c'è un sommario ma è stata pensata proprio in ottica certificativa quindi per certificare un sistema di gestione di gestione BIM quello che vediamo sul mercato a volte è un po' di confusione perché molte volte nelle stazioni le stazioni appaltanti chiedono certificazione BIM generica alcuni diciamo così mi viene voglia di definirle furbetti cosa fanno certificano l'ISO 9001 e nello scopo della certificazione fanno scrivere anche progettazione BIM allora questo non dà alcuna garanzia che ci sia un sistema di gestione BIM specifico perché effettivamente la ISO 9001 uno va a vedere che quel processo in qualche maniera è governato ma non è detto in base a quali requisiti quindi io invito anche le stazioni appaltanti soprattutto le stazioni appaltanti laddove mettono nei bandi dei criteri premiali di specificare certificazione accreditata perché c'è uno schema di accreditamento per la PDR 74 accreditato del sistema di gestione BIM in conformità alla Uni PDR 74 2019 avendo un bando chiaro questo evita anche possibili i conteziosi in fase di gara quali sono i vantaggi di certificare un sistema di gestione BIM beh innanzitutto in termini di comunicazione come referenza per la propria azienda quando Italfair ha ottenuto la nostra certificazione ha pubblicato una notizia ANSA in 87 paesi del mondo in 5 lingue quindi questo fa capire bene quanto sia diciamo importante la fase comunicativa ma ovviamente ci sono tanti altri vantaggi anche più intrinseci che sono quello di governare un processo aziendale questo abbiamo sentito le testimonianze di aziende di progettisti di stazioni appaltanti eccetera generare efficienza e riduzione di costi in attività di progettazione e quindi spiegavo prima anche quali possono essere i possibili danni da una da una mala gestione di un processo BIM BIM ovviamente dare al mercato evidenza delle proprie competenze quindi una leva commerciale nei bandi pubblici e quindi laddove viene descritto questo criterio primale soddisfare i requisiti di competenza BIM in maniera molto chiara e poi dimostrare perché c'è anche tutta una questione legale è stata accennata anche da Ruperto prima ma ci sono tanti aspetti legali legati al BIM e quindi anche domani in caso di contenzioso di poter dimostrare di avere operato in linea con lo stato dell'arte quindi con una specifica ad hoc e c'è una certificazione di terza parte che garantisce questa conformità nella parte di competenza paragrafo 6-2 si parla di competenze appunto e quindi si parla di certificazione professionale la certificazione professionale per gli esperti BIM si articola su quattro su quattro figure B-specialist coordinato manager e CDE manager anche su questo noi avevamo avviato da aprile 2016 uno schema nostro per esperto BIM poi abbiamo diciamo così dato il nostro contributo a UNI per redigere la 11-337 parte 7 la 11-337 è un pacchetto di normativa che si a livello UNI che si occupa di tante parti che li vedete elencati la 11-337 parte 7 si occupa proprio delle figure professionali e quindi c'è un nuovo schema di certificazione che diciamo è in conformità alla UNI e sotto accreditamento a credia da gennaio 2019 che definisce queste quattro figure per il BIM specialist e solo per questo si specifica nel certificato anche la disciplina cioè se architettura struttura map o infrastrutture quindi impianti o infrastrutture lo schema di certificazione devo dire che ha riscosso successo la mia collega vi faceva vedere che ci sono più di 1600 esperti certificati qua vedete una rappresentazione di come sono suddivise tra le diverse figure quello che potete vedere è che il numero sicuramente di esperti con maggior numero di certificazioni sono i BIM specialist che superano gli 800 sugli altri ovviamente ci sono meno figure i CDE manager sono quelli in questo momento un po' il fanalino di coda ma anche perché è una professionalità che è maturata da poco c'era ancora molta incertezza su come fare gli esami di certificazione eccetera quindi partita un po' dopo gli altri quindi i numeri sono quelli che vedete ovviamente c'è come diceva la mia collega c'è un registro sia su Accredia che credo su tutti gli organismi che rilasciano le certificazioni e questo direi quello che fa fede è sempre quello dell'organismo che ha rilasciato la certificazione perché è quello più aggiornato e qui voi potete vedere mi riferisco per esempio alle stazioni appaltanti se vi danno delle indicazioni sulla certificazione andate a vedere lo stato di validità della certificazione e della persona noi nella fattispecie operiamo attraverso organismi di valutazione questo è anche comune ovviamente con altri nostri i nostri colleghi quindi ci sono dei centri d'esame che sono spassi sul territorio e questo anche da un punto di vista della logistica è un vantaggio è un vantaggio per ovviamente tutte le organizzazioni che sono interessate a far certificare le proprie professionalità una cosa che ci caratterizza è il fatto che abbiamo aperto una BIM community e questa BIM community è disponibile per tutti gli esperti BIM certificati con i CMQ e per i rappresentanti delle aziende che hanno un sistema di gestione BIM certificato in conformità alla Uni PDR 74 con i CMQ l'abbiamo fatto insieme a Ingegno perché riteniamo che su questo mondo avete sentito anche prima dalle testimonianze c'è molto da discutere da confrontarsi da scambiare esperienze insomma da fare networking e ovviamente fare networking all'interno di un nucleo di esperti e di specialisti che hanno una certificazione quindi sicuramente hanno questa competenza è ben diverso che magari confrontarsi su Facebook LinkedIn o quant'altro e quindi avere un punto d'incontro che permetta di fare questo scambio di esperienze anche di mettere a fattore comune disagi noi abbiamo fatto per esempio un survey all'interno della BIM community e abbiamo visto che gli esperti BIM hanno anche diciamo qualche problema che possono essere problemi legati o disagi legati all'interno della propria organizzazione molte volte alcune organizzazioni comprano un software prendono un esperto e gli dicono arrangiti e gestisci tu il BIM questo ovviamente li mette esagero ma questo sicuramente li mette in una condizione in cui il BIM non è visto come un processo aziendale condiviso ma come qualcosa lasciato a una singola persona così come per esempio hanno disagi molte volte a relazionarsi con le stazioni appaltanti dall'altra parte c'è magari un RUP che vuole il BIM o necessità perché la legge lo prevede però non ha le competenze sufficienti o all'interno della stazione appaltante o lui stesso e quindi in buona sostanza anche chi è il committente o il progettista deve in qualche maniera fargli un po' da tutor su questi aspetti e questo crea ovviamente un sovralavoro delle sovrarresponsabilità e questo non è visto quindi è un punto in cui si condividono anche queste cose e si trovano magari anche delle soluzioni da proporre e così via così come per esempio organizziamo eventi uno l'abbiamo fatto qualche giorno fa sull'evoluzione del norme il 6 maggio ce n'è uno sull'Egal BIM che è un altro aspetto che è importante quindi questo è credo che possa essere un contributo utile utile a tutti gli esperti e tutte le organizzazioni che in qualche maniera condividono io mi fermo qua credo di essere andato abbastanza veloce per non rubare tempo agli altri e vi ringrazio per l'attenzione grazie mille Lorenzo e quindi passo velocissimamente la parola all'ultimo intervento sicuramente non per importanza a Rossella la facce del terzo ente di certificazione che abbiamo invitato oggi ossia Buro Veritas Buonasera buonasera a tutti sarò velocissima così da catturare le ultime energie rimaste che effettivamente è stato veramente una carrellata significativa di interventi schippo velocissimo sul chi siamo e sul che cosa facciamo perché penso che Buro Veritas sia un ente abbastanza noto nel mondo e nell'ambiente delle attività cosiddette TIC quindi di Testing Inspection and Certification faccio solo un punto velocissimo relativo a CEPAS che probabilmente è una realtà meno nota all'interno del macro mondo multinazionale di Buro Veritas che è la società che di fatto è dedicata specificatamente al tema della certificazione delle competenze professionali secondo quella norma che citava prima la collega della 17.024 quindi della normativa che ci detta un po' le regole del gioco se così vogliamo chiamarle della certificazione di competenze professionali siamo un organismo accreditato a Credia e ribadisco anche io il concetto che bene per questa tipologia di certificazione appoggiarsi o comunque fare riferimento ad enti che siano accreditati io entro un pochettino più nello specifico rispetto a quello insomma che è stato fatto dai colleghi rispetto al tema della specificità della certificazione di competenze certificare le competenze che cosa significa? è un processo complesso se vogliamo perché in realtà quello che vedete come punta dell'iceberg di fatto è l'emissione di un certificato un pezzo di carta possiamo banalizzarlo così di fatto questo processo però sottende ad un'attività di valorizzazione e di analisi del professionista a 360 gradi rispetto a tutto quello che riguarda la sua esperienza specifica la sua formazione le sue skills in alcuni casi e comunque le sue competenze il suo know-how specifico di settore andando velocissimamente a quello che significa certificare i professionisti in ambito BIM chiaramente ci stiamo muovendo all'interno di una normativa specifica di riferimento a cui accennavano anche i colleghi prima di me che è la 11337 questo pacchetto di norme in realtà nella parte 7 definisce quelle che sono le figure relative proprio al mondo del BIM definendone fondamentalmente quattro livelli che potremmo chiamare di expertise diversa rispetto all'approccio al mondo BIM quindi parliamo di BIM specialist di BIM coordinator BIM manager e CDA manager come funziona in generale il processo di certificazione delle competenze da questo punto di vista nulla ci può aiutare meglio che la norma nel senso che la 11337 nella sua parte 7 ha definito in maniera molto puntuale quali siano i requisiti di accesso alla certificazione e ha posto fondamentalmente il doppio punto che riguarda l'esperienza lavorativa generica in area tecnica e l'esperienza di lavoro specifica con il metodo BIM adeguato naturalmente al profilo professionale richiesto quindi potete notare come da BIM specialist BIM coordinator BIM manager CDA manager cambino gli anni di esperienza richiesta per l'accesso alla certificazione che riceve un piccolo sconto di pena se così lo vogliamo chiamare rispetto all'esperienza specifica che può essere sostituita anche da un master pertinente composto di almeno 200 ore di formazione questo per garantire soprattutto nell'ambiente degli specialist che abbiamo visto essere diciamo un target abbastanza proficuo di professionalità che appunto magari escono da un master e non hanno ancora raggiunto quella seniority di esperienza che invece è più propria e comunque più specifica di altre di altre figure visto e valutato nel suo complesso il professionista fondamentalmente poi il cuore dell'attività è l'assessment l'esame chiamiamolo come preferiamo l'esame di fatto si compone di una prova scritta quindi di una parte prettamente teorica che si sostanzia in un test multiple choice poi abbiamo una parte pratica quindi con un caso di studio specifico a seconda appunto della casistica di interesse del professionista e infine a valle di queste due prove scritte abbiamo la prova orale per appunto l'approfondimento di quelle che sono state di quelli che sono stati gli outcome derivanti dalle prove scritte e chiaramente di approfondimento con la nostra con la nostra commissione d'esame tutto questo chiaramente e auspicabilmente a seguito di un riscontro positivo genera quello che è poi il certificato e l'iscrizione come si diceva prima al registro pubblico dei professionisti certificati che potete consultare in qualsiasi organismo di valutazione e chiaramente poi la registrazione presso la banca dati di Accredia come professionisti non solo certificati ma anche accreditati il tema che mi piace sottolineare sempre questo riguarda non solo la certificazione in ambito BIM ma la certificazione di competenze by default chiamiamola così è il tema del mantenimento e del rinnovo la 17.024 in questo è molto precisa e di fatto questo obiettivo dovrebbe essere sposato da tutti gli enti di certificazione come operatori nell'ambito delle competenze il professionista che si certifica oggi è un professionista che si prevede sia sempre aggiornato e mai come in questo ambiente bisogna chiaramente stare al passo con quelle che sono le normative o i documenti paranormativi di settore per questo il mantenimento è un'attività che segue alla certificazione del primo anno ed è un'attività che poi chiaramente prevede un rinnovo al quinto anno per questo i professionisti che si certificano con enti come il nostro come quello insomma dei colleghi che mi hanno preceduto è un professionista come si dice up to date venendo e chiudendo il mio intervento i colleghi si sono già espressi prima di me rispetto alla rilevanza e ai benefici che ci sono oggi nel certificare e nell'essere professionisti certificati in questo settore aggiungo sicuramente il tema della affidabilità di un professionista che decide in qualche maniera di uscire dalla propria autoreferenzialità per dare una garanzia preventiva al proprio network alla propria organizzazione ai propri contatti di essere un professionista certificato meglio naturalmente il tutto se fatto con degli enti che abbiano una certificazione come si diceva prima accreditata e che abbiano chiaramente la reputazione di un marchio solido di una standardizzazione di processo di aggiornamento continuo trasparente sono stata estremamente sintetica spero di non aver di non aver sforato troppo vi ringrazio e ringrazio ancora gli organizzatori per questo bel evento perfetta Rossella grazie mille anche per la sinteticità ringrazio anche la maggior parte dei partecipanti che vedo comunque stanno tenendo tutti tutti botta e allora ringrazio sicuramente tutti i partecipanti tutti i relatori che hanno dato il loro preziosissimo contributo è arrivata una domanda che è stata fatta era rivolta all'ingegner Carloni ho raccolto la risposta quindi la do io a voce e allora buonasera per quanto riguarda l'outoring dei modelli infrastrutturali ritenete che Revit sia migliore di Civil 3D Erika Carloni risponde abbiamo scelto Revit per la progettazione impiantistica in quanto dispone di funzionalità più spinte per progetti complessi cito anche solo la possibilità di creare famiglie particolari e curare i dettagli Civil 3D lo stiamo testando per le opere a rete che hanno un'estensione maggiore e più oggetti standard mi approfitto per fare anche per contestualizzare un attimino di più la risposta Revit e Civil 3D sono le offerte diciamo di software lato casa Autodesk quello che consiglio sia come consulente che come B-manager riveste entrambi i ruoli quello che consiglio sempre è di testare e di farsi fare demo dimostrative da software house e da chi rivende il software perché in base alle proprie esigenze interne di progettazione si capisce qual è il software migliore banalmente se una società è specializzata in impianti Revit alle volte potrebbe essere limitante mi viene da pensare ad esempio a un DDS CAD che potrebbe essere potrebbe essere diciamo valutabile o Magica ad esempio nessuno mi sta pagando premetto quello non ho accordi con software house e sicuramente va contestualizzato molto il tipo di opera che si sta andando a realizzare cioè se sto parlando di un'opera puntuale quindi un edificio un impianto che però è limitato nell'XYZ cioè XYZ sono bene o male rapportabili con un rapporto fino a mi spingo fino a uno a dieci circa se invece parliamo di opere infrastrutturali quali ad esempio le opere fognarie le opere idriche di acqueduttistiche lì allora sicuramente un authoring come un Revit come anche un DDS CAD quelli che abbiamo prima un Archicad poi nasce per la parte per architettonica o un Alplan potrebbe non essere sufficiente questo perché perché per gestire chilometri e chilometri di di rete il motore che c'è sotto al software deve fare tanti tanti calcoli cerco di estremizzare nella semplicità della risposta deve fare molti molti calcoli sempre in XYZ i software che nascono per la progettazione del del building quindi degli edifici puntuali difficilmente gestiscono chilometri o comunque anche una centinaia di metri di diretti quindi sicuramente un consiglio che mi sento di dare è quello di insistere nel domandare demo nel farsi anche affiancare magari da professionisti che conoscono i vari software e che possono dare le indicazioni conoscendo la vostra la vostra realtà banalmente un Civil 3D può andare bene come può invece magari andare bene un Nova Point di Trimble che è sempre un altro strumento di un'altra casa produttrice sempre dedicato a quelle che sono le infrastrutture ecco quello è un attimino giusto una puntualizzazione controllo un attimo ma non mi sembra che ci siano altre altre domande se comunque dovessero dovessero venirvi delle domande potete tranquillamente scrivere alla eventualmente alla segretaria di Foy non ci fa ci fa pervenire le domande e faccio una piccola un piccolo inciso che me l'avete chiesto in tanti in chat le slide verranno condivise nel sito di Foy per i per i relatori che hanno dato la disponibilità di pubblicarle e anche verrà pubblicato la registrazione di questo incontro mentre i CFP verranno accreditati nelle prossime settimane dall'Ordine di Venezia se ci fossero problemi potete tranquillamente contattarci restiamo comunque a disposizione e vi ringrazio e buona serata a tutti grazie